Mi chiamo Villani Consolato, sono nato a Reggio Calabria il 20.06.1976. Va bene, un attimino soltanto. Pubblico Ministero, intanto vorremmo sapere in che veste è presente il signor Villani. Il Villani ritengo, Presidente, che debba essere ancora qualificato come indagato in procedimento connesso, quindi che non sussistono al momento i presupposti per sentirlo ai sensi ad articolo 197 bis, proprio perché ci sono vicende, ovviamente, accessori a quella attuale, su cui non possiamo assolutamente affermare che siano state accertate definitivamente tutte le responsabilità. Va bene, quindi dovremmo sentirlo ai sensi dell'articolo 2810. Ha un suo difensore? Sì. Chi è il difensore? L'Avvocatessa Biondi, del Foro di Roma. Sono qui presente, Presidente, Maria Assunta Biondi, del Foro di Roma. Diamo atto, Dottore Pellegrino, della presenza del difensore. Avvocato Biondi, del Foro di Roma. Il nome è scusi? Maria Assunta. Maria Assunta Biondi, del Foro di Roma. E allora, le altre parti, quindi avete preso atto di quello che ci ha rappresentato il Pubblico Ministero, quindi verrà sentito ai sensi dell'articolo 210. Io devo quindi avvisarla che lei in questa veste di indagato di un procedimento connesso può avvalersi della facoltà di non rispondere. Lei vuole rispondere o vuole avvalersi di questa facoltà? No, voglio rispondere. Allora, dichiara di non volersi avvalere della facoltà di non rispondere. Il Pubblico Ministero quindi può... Mi autorizza a stare seduto, Presidente? Sì, certo. E allora, Villani, sono il Dottore Lombardo. Buongiorno, Dottore. Vorrei che lei spiegasse in via preliminare alla Corte di Assise perché nel settembre 2010 lei decide di collaborare con la Giustizia. Sì, allora, nel settembre 2010 ho deciso di collaborare con la Giustizia perché ho iniziato a intraprendere una maturità interiore che non sapevo che esisteva prima. E intanto, diventando padre, questo mi ha favorito a capire il male che io avevo recato alle altre famiglie. e mi rivolgo oggi, ho l'occasione che aspetto da tanto tempo, mi rivolgo ai familiari delle vittime che io ho cagionato, che io ho causato e a tutti quelli che sono stati bersaglio delle mie indegnitudini. Non chiedo perdono perché chiedere perdono non è possibile perché non mi sono perdonato neanche io stesso. Quindi io chiedo a loro di avere, se potranno, mi incinotto intanto di fronte a loro e chiedo pietà per quello che io gli ho recato. Dico questo perché, diventando padre, arrivato a casa mi vedevo le mie figlie che dicevano papà, papà, sei arrivato. In quel momento ho iniziato a domandarmi ma che pezzo di merda, scusate l'espressione, sono stato? E allora ho intrapreso, non è stato facile, perché io purtroppo sono nato e cresciuto in una famiglia di indrangheta. non voglio addossare tutte le responsabilità alla mia famiglia perché le altre responsabilità le ho portate avanti io con il mio carattere, il mio modo di fare è sbagliato. Iniziando a maturare ho capito che non potevo andare più avanti, non potevo guardare le mie figlie in faccia perché avevano un assassino a casa che ha causato un dramma in diverse famiglie. Tutto questo, non voglio dire altre parole perché non riesco neanche a trovarle, Presidente. Per me è troppo emozionante trovarmi oggi qui. Va bene, signor Vincolato. Il pubblico ministero può andare avanti, credo che abbia esposto tutte le ragioni. Villani, lei ha detto adesso di essere nato e cresciuto in una famiglia di indrangheta. Vorrei, come mi creda abbiamo già fatto in altre occasioni, che lei raccontasse e spiegasse meglio cosa intende per famiglia di indrangheta e qual è stata la sua carriera in quel contesto criminale. Sì, allora io sono figlio di lo giudice Caterina, parlo, diciamo, prima cugina di lo giudice famiglia di indrangheta di Santa Caterina, operanza Santa Caterina. Da quando ero piccolo ho visto, diciamo, mi sono stati impartiti degli insegnamenti usualmente, diciamo, di malavita, di indrangheta, anche nella normalità, e anche come mi dovevo porre nella normalità, come dovevo agire, l'odio che doveva crescere in me quando qualcuno faceva un errore e tutto il resto che poi mi hanno portato a dove purtroppo sono arrivato. Praticamente vengo da dalla cosca lo giudice che è stato operante per anni e ha dominato per anni nel rione di Santa Caterina di Reggio Calabria, Reggio Porto, San Brunello, Vito, dove io ho contribuito a, diciamo, mettere in pratica questa supremazia criminale dei miei familiari. La mia carriera purtroppo è iniziata in maniera in maniera veloce e in maniera terribile perché ero un giovane della famiglia lo giudice che è praticamente della cosca lo giudice che aveva finito appena la guerra di indrangheta. Nella guerra di indrangheta è stato ucciso mio zio lo giudice Giuseppe e mio cugino Salvatore lo giudice. Quindi era stato nello scontro famoso e terribile che c'è stato nella città di Reggio Calabria dell'85 al 91 dove ci sono stati quasi 800, 700, 800 morti. A lo giudice i miei familiari noi facevamo parte dello schieramento con Delliano dopo la morte di lo giudice Salvatore. La mia, diciamo, carriera purtroppo criminale in pratica è effettivamente iniziata nell'anno 93 in poi. Lei era minorenne? Sì, ero minorenne. Prima avevo bruciato qualche macchina. Queste erano diciamo le prime la prima scuola che si doveva fare per poi arrivare giungere a commettere dei delitti gravi come l'omicidio che era una sorta di traguardo importantissimo per un ragazzo che aspira a diventare un'ondranghetista. si fermi un attimo Villani lei da minorenne e quindi in epoca antecedente all'omicidio di cui sta parlando era già formalmente affiliato alla costa lo giudice quindi era un uomo di indrangheta a tutti gli effetti? No, formalmente non era affiliato ma ero in una famiglia di indrangheta quindi dottore cambia cambia ben poco cambia ben poco perché quelle sono delle diciamo delle usanze tradizionali diciamo della criminalità dell'indrangheta che vengono portate avanti per una sorta di carta di identità diciamo dell'ondranghetista quella intende diciamo la formale affiliazione il battezzo sì ma il nipote un cugino di un lo giudice è un'ondranghetista anche cioè nasce indranghetista lei dice nasce indranghetista sì o nasce indranghetista o viene messo da parte perché noi avevamo parenti che addirittura li schiacciavamo dovevano dovevano rimanere distanti da noi noi gli davamo confidenza dicevamo che non valgono niente perché non erano capaci non erano coraggiosi non erano azionisti in famiglia stessa quindi lei invece lei era stato valutato già da minorenne come una persona capace di far parte di quel mondo sì ero stato valutato purtroppo poi perché dai danneggiamenti si è passati alle cose più grave più serie le cose più grave più serie iniziano con la sparatoria avvenuta ai danni di Pietro Neri un duplice tentato omicidio che avviene ad agosto prima ad agosto luglio-agosto del 93 su incarico di chi? su incarico mio e di Calabro perché praticamente che vuol dire su incarico mio e di Calabro qualcuno vi incarica o vi incaricate da soli? no qualcuno ci informa sempre dei miei familiari ci informa che il Pietro Neri aveva fatto una confidenza diciamo era stato un infame e aveva fatto una telefonata anonima che ci aveva fatto arrestare perché a me a giugno del 93 mi avevano arrestato per una tentata a rapina e allora praticamente c'era stata una telefonata anonima fatta presumibilmente da Pietro Neri che poi è stato portato alla polizia la polizia ci ha accusati in pratica ma noi non lo potevamo sapere noi l'abbiamo saputo perché il cognato di un mio zio era poliziotto all'epoca alla questura di Santa Caterina e quindi voi reagite rispetto a questa situazione con il tentato omicidio sì chiedendo l'autorizzazione a chi? no niente l'autorizzazione parliamo io parlo con Calabro e Calabro chi? Calabro Giuseppe sì perché parlo con Calabro Giuseppe perché io ero stato arrestato come vi stavo dicendo prima nel 93 insieme al fratello a Francesco Calabro e a Giacomo Stilitano per quale motivo? per tentata rapina a danno di tre cittadini tedeschi e da lì nasce il legame l'amicizia con la famiglia Calabro e con Giuseppe Calabro bene si fermi un attimo poi ovviamente torneremo su questo che è il cuore anche del del processo lei nel momento in cui inizia a collaborare con la giustizia ha un grado molto alto di Andrangheta sì qual è? evangelista evangelista sì quindi aveva avuto il vangelo sì ecco vorrei che lei spiegasse alla corte tutti i passaggi nella gerarchia mafiosa che lei ha vissuto negli anni di carriera sì io uscendo dal carcere poi sono stato arrestato per gli acquati ai carabinieri sono uscito in scadenza termini ad aprile del 96 quindi mi scusi un attimo lei entra in carcere per gli attentati ai carabinieri che è sostanzialmente un soggetto di Andrangheta ma che ancora formalmente non è stato affiliato esattamente quindi all'uscita dal carcere alcuni miei familiari alcuni miei parenti della famosa Cosca lo Giudice Operanta Santa Caterina sì eh si trovavano in carcere sì e io diciamo ero in collegamento ero in contatto con Giovanni Chilà il defunto Giovanni Chilà chi è? chi è Giovanni Chilà sì che diciamo è stato un killer rispietato nelle mani della Cosca lo Giudice con ruolo anche in assenza dei familiari di comando un ruolo apicale e un ruolo di azionista di killer se qualcuno dava fastidio quindi uno dei soggetti di vertice della Cosca lo Giudice sì controllava Giovanni Chilà oltre che il territorio di Santa Caterina anche altri territori sì nell'Interlande Reggino sì controllava pure Patarriti lui era il capo società per quindi lui aveva un ruolo formale in un locale di Indrangheta sì che era Patarriti sì Patarriti sì sempre sostenuto e che dote aveva Giovanni Chilà Giovanni Chilà aveva praticamente io ero stato informato che aveva avuto la Santa e poi gli erano state date delle cariche come capo società e quindi capo società Villani era il vertice operativo di quel locale sì 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 dominava in lungo e in largo Patarriti anche perché ha fatto prima un po' di pulizia nel locale stesso di Patarriti pulizia intendo dire che ha fatto qualche ha sparato a qualche vecchio indranghetista l'ha fatto mettere da parte con l'aiuto della cosca lo giudice e si è preso tutto il locale di Patarriti il locale di Patarriti dipendeva solo ed esclusivamente da Giovanni Chilà che era lo giudice Giovanni Chilà era lo giudice bene quindi lei esce dal carcere sì rientra a far parte ovviamente di quel mondo sì e diciamo ufficialmente viene affiliato sì che grado le danno all'inizio mi danno il grado di Picciotto e subito dopo Picciotto Camorrista nella stessa riunione riunione a qui riunione svolta dove alla presenza di chi a Patarriti nella stalla nella casa di campagna nella stalla di Giovanni Chilà alla presenza di Giovanni Chilà e di tanti altri personaggi che io non ero tenuto a conoscere e a sapere chi erano eh quindi che cosa avviene? avviene che da lì in poi io dipendo a tutti gli effetti prendo eh diciamo comandi da Giovanni Chilà bene che nel frattempo esce pure diciamo un altro pezzo di vertice della mia famiglia della mia cosca Bruno Stilo Bruno Stilo sì mi faccia capire subito una cosa in quel momento storico Nino lo giudice è libero o è detenuto? no Nino lo giudice è detenuto Nino lo giudice in quel momento storico è il vertice della cosca lo giudice? eh no non è allora diciamo che è il vertice della cosca lo giudice però si trova in carcere è fuori sì fuori il vertice cioè Nino lo giudice viene rappresentato quando esce prima vengono rappresentati lo giudice da Giovanni che è da Consolata al Conte sì ma poi quando esce Bruno Stilo è il referente il rappresentante a tutti gli effetti di Nino lo giudice che stiamo parlando di un personaggio di Nino lo giudice mi perdoni perché Bruno Stilo aveva quel peso particolare? Bruno Stilo aveva avuto quel peso particolare intanto perché era il cognato di Nino lo giudice fratello della moglie sì intanto perché è di vecchia guardia della cosca lo giudice è stato da sempre dranghetista aveva avuto il grado di santista e poteva rappresentare a tutti gli effetti Nino lo giudice per merito e per anzianità pure quindi la struttura di comando della cosca lo giudice quando lei viene scarcerato è quella che ci sta descrivendo sì lei che ruolo assume in quell'ambito io assumo il ruolo di azionista in quell'ambito nel senso che un picciotto camorrista 96-97 assume il ruolo di prendere diciamo i comandi che mi vengono impartiti da Giovanni Chilà e da Bruno Stilo tramite Giovanni Chilà azionista significa uomo d'azione sì sempre a disposizione se si doveva fare qualsiasi azione e io ne andavo ne andavo fiero perché lo dranghetista deve purtroppo iniziare ad essere prima un azionista sì perché se non è non è dranghetista non ha niente non viene riconosciuto non ha meriti e deve vivere diciamo sotto l'ala di qualche altro familiare ma tra dranghetisti stessi si sa chi vale e chi non vale ovviamente la cosca lo giudice non era formata solo da queste quattro persone che lei ci sta indicando assolutamente no la cosca lo giudice in quel momento storico siamo qualche anno dopo la fine della seconda guerra di mafia sì come si colloca nel panorama reggino nel panorama reggino e soprattutto qual è il peso che la cosca lo giudice ha in quel panorama sì allora intanto c'è da dire che la cosca lo giudice è stata una delle cosche che non voleva fare la pace non voleva fare la pace no non voleva fare la pace perché quando c'è stata la riunione per pacificare e finire con la guerra non voleva fare la pace perché chi aveva ucciso mio cugino e chi aveva ucciso mio zio non erano stati Salvatore e suo cugino lo so che lei queste cose diciamo le dà anche per scontate le ha dette tante volte però quando fa riferimento a dei soggetti nome cognome e tutti diciamo i riferimenti che ci consentono di non equivocare sì allora erano diciamo erano vivi gli artefici che avevano fatto uccidere Salvatore lo giudice e poi mio zio Giuseppe lo giudice ecco ci dica a questo punto chi erano gli artefici gli artefici partendo dal locale di Santa Caterina erano i Franco Murina Moschera ma chi erano i Franco Murina Moschera Franco Murina Moschera erano diciamo una filiale dei Tegano di Stefano a Santa Caterina già in quegli anni già in quegli anni assolutamente si Murina era riconosciuto a tutti gli effetti Carmelo Murina riconosciuto a tutti gli effetti come un killer affidabile e pericoloso della cosca Tegano di Stefano bene mi faccia capire un'altra cosa nel momento in cui lei entra formalmente a far parte dell'andrangheta ma anche prima da appartenente sostanziale quindi lei nasce ha detto prima andranghetista perché proviene da una certa famiglia le raccontano la genesi della cosca lo giudice come nasce quell'articolazione di indrangheta sotto l'ala di chi per volere di quale capo mafia sì ma la cosca lo giudice diciamo che nasce da Vincenzo lo giudice e da Giuseppe lo giudice che sono come cosca riconosciuta di indrangheta che sono rispetto a Nino lo giudice chi sono rispetto a Nino lo giudice chi sono il padre e lo zio il padre e lo zio in quali anni siamo ma siamo negli anni penso un po' negli anni 70 il vertice criminale di Reggio Calabria negli anni in cui la cosca lo giudice viene riconosciuta formalmente come dice lei nasce utilizziamo questo termine per farci capire il vertice criminale della città di Reggio Calabria chi è all'epoca avevano vinto anche la guerra contro Mico Tripodo Eruni De Stefano Paolo De Stefano i fratelli De Stefano la cosca De Stefano quindi possiamo diciamo riassumere quello che lei sta dicendo affermando che i lo giudice nascono formalmente famiglia di indrangheta per volere di Paolo De Stefano sì questo lei da chi lo apprende questo lo apprendo dai miei familiari stessi e lo apprendo da Nino Lo Giudice da Giovanni Chilà lo apprendo dai miei familiari stessi bene negli anni i rapporti tra i lo giudice e De Stefano quali sono stati perché lei poco fa ci ha invece detto che sostanzialmente Salvatore e Giuseppe poi muoiono per mano di soggetti collegati ad E Stefano sì ci spieghi bene questo passaggio sì perché la cosca lo giudice praticamente prende un potere non indifferente nella zona di Santa Caterina di San Brunello e di Reggio Porto sì anche perché quindi una parte centrale della città della città con il capo riconosciuto lo giudice Giuseppe era capo indiscusso del locale di Santa Caterina anche se bisognava dare conto ad archi non c'è dubbio è stato sempre così però lui aveva un ruolo verticistico e un ruolo di tutto rispetto riconosciuto da tutti quanti a Santa Caterina quando lei dice bisognava dare conto ad archi che cosa intende? sì bisognava dare conto ad archi perché il locale di Santa Caterina come ho detto già prima è un locale che è gestito da uomini dranghetisti che sono affiliati al locale di archi perché che quindi è un locale più importante il locale di archi è il locale più importante che c'è a Reggio Calabria possiamo dire che è il locale capofila possiamo definirlo così? sì e da chi era guidato il locale di archi? il locale di archi era guidato dai De Stefano Tegano dai Gondello Iberti in che epoca siamo quando lei fa questa affermazione? la seconda guerra di mafia siamo in epoca che io ancora diciamo forse ero pure piccolino quando i De Stefano forse non ero neanche nato quando i De Stefano già insieme ai Tegano insieme ai ai Contello i Merti che venivano un po' dopo perché ancora erano all'inizio all'epoca già dominano diverse aree diversi locali della città quindi siamo in un'epoca antecedente alla seconda guerra di mafia all'85 sostanzialmente Paolo De Stefano è ancora vivo sì e in quegli anni se ovviamente l'è stato raccontato perché lei era molto giovane sì quali erano i rapporti tra Giuseppe e Vincenzo lo Giudice e i vertici del locale di archi allora in quegli anni si rispettavano tanto lo Giudice con i De Stefano si rispettavano parecchio tantissimo solo che c'è stato poi ci sono stati dei problemi perché all'inizio sono state fatte anche delle azioni criminali insieme tra lo Giudice e De Stefano e De Stefano contro altri contro chi diciamo contro chi doveva subire precisamente contro chi non lo so dire ma contro chi doveva subire diciamo l'avvertimento la punizione ma poi succede che i Tegano e De Stefano scoprono che i miei parenti stavano facendo una sorta di doppio gioco perché i lo Giudice non è che sparavano se c'era bisogno solo per i De Stefano Tegano ma sparavano anche per conto loro e infatti in un omicidio commesso da Giovanni Chilà e Salvatore lo Giudice parlo di del padre di Pino Liuzzo sulla statale 106 Pino Liuzzo che i Rosmini sì il padre venne ucciso da Giovanni Chilà e da Salvatore lo Giudice mio cugino dentro il suo ufficio proprio nel cantiere edile sì all'uscita i lo Giudice vengono scoperti da chi? da Vincenzo Figara stiamo parlando di Vincenzo Figara che poi diventa il vertice della cosca Ladella affiliata sempre collegata da rapporti strettissimi con Ide Stefano Tegano di Archi quindi lei sta dicendo che quell'episodio fa emergere diciamo un ruolo dei lo Giudice non totalmente allineato non totalmente controllabile da parte di Archi sì anche perché c'era un altro discorso dottori che il Liuzzo era protetto da Mico Libri sì dai libri stiamo parlando da Mico Libri che a livello siamo sempre in epoca antecedente alla guerra sì che Mico Libri parliamo che era a livello diciamo di Stefano all'epoca come potenza è un grande diciamo malvivente diciamo uno dei uno dei dranghetisti di alto livello di alto spessore che ha avuto la città di Reggio Calabria sì perché era l'unico insieme a Pietro Labbate a Pietro Di Mangio che veniva visto dagli arcoti sì a parolivello suo quindi operavano in altri territori sempre qui della città di Reggio Calabria tanto i libri che i labbate ma erano considerati molto in alto anche da Archi sì sì quindi che cosa succede nel momento in cui diciamo questa sorta di doppio gioco come lei lo chiama sì succede che io direi forse più che doppio gioco diciamo questo non totale allineamento sì alla volontà di Archi viene scoperto cosa succede succede che in primis Pasquale Tegano Domenico Tegano Giovanni Tegano tutti Tegano tutti De Stefano per dopo aver ricevuto l'Imbasciata da Ilatella che li mettono a conoscenza e mettono a conoscenza anche i miei colibri si riuniscono e decidono di far ammazzare Salvatore lo giudice e in che anno siamo? siamo nell'89 quindi la guerra di mafia è iniziata e se la guerra di mafia è iniziata e quindi dopo l'ottobre 1985 nei primi anni della guerra di mafia lei era giovane ma era già dentro mi sono dimenticato di dirvi che ora mi sono ricordato che i giudici sparavano contro i rosmini contro i rosmini perché? hanno ucciso hanno allora hanno ucciso il fratello di Mico Stilitano di Vito perché segnala questa circostanza? segnala queste circostanze perché erano a tutti gli effetti dei stefaniani perché perché la guerra era già iniziata e quindi la guerra già era scoppiata tra i stefaniani e iniziata c'erano già dei malumori tra questi due grossi gruppi che facevano riferimento poi uno ai de stefano e uno ai condello bene chi erano i de stefaniani perché questo non l'abbiamo capito allora i de stefaniani erano i libri no 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 questo lo so voglio dire come come schieramento in astratto lei ha detto perché erano de stefaniani si riferiva ai lo giudice sì all'inizio sì erano de stefaniani lo giudice quindi sostanzialmente sta dicendo che quando inizia la guerra i lo giudice sono ancora con i de stefano sì assolutamente sì anche prima quando c'erano state delle scaramucce come ho detto già prima i lo giudici già avevano partecipato alla morte di Antonino Rosmini ecco del porto bene ma Antonino Rosmini rivendicava un suo ruolo sul territorio di Santa Caterina e territori limitrofi sì quindi è quello il motivo per cui anche però anche era quello il motivo però era diciamo anche una persona che poteva di un forte carisma criminale di quello che mi è stato raccontato dai miei familiari sì e allora in accordo i de stefano decano con mio zio Giuseppe lo giudice si sono messi d'accordo e hanno fatto ammazzare Nino Rosmini con la presenza di Nino lo giudice sul posto dove è stato ucciso Nino lo giudice chi? Nino lo giudice è mio cugino il nano quindi il collaboratore di giustizia il collaboratore di giustizia ovviamente tutto questo a lei viene raccontato da qualcuno sì sì da chi? da Giovanni Chilai da Nino lo giudice stesso quindi poi Nino lo giudice le conferma queste cose? assolutamente sì addirittura mi ha detto anche che dopo l'omicidio di Nino Rosmini non dimentico mai mi ha detto anche che sono andati a brindare in un bar a Santa Caterina bene fermiamoci su un aspetto che poi in questa sede interessa quindi Ificara Latella in quel momento storico rispetto ai De Stefano Tegano Libri come si collocano? Ificara Latella in quel momento stesso si collocano a fianco dei libri molto vicino ai libri erano in sinergia già all'epoca con i libri e per conto di archi controllavano un territorio? sì controllavano il territorio sud della città diciamo il territorio di Ravagnese Saracinello Crocevalanidi come controllavano e poi purtroppo fino al 2010 penso che non lo so ora fino al 2010 lo continuavano a controllare loro quindi erano una famiglia importante dice lei che dipendeva sempre da archi non del tutto completamente dipendeva c'era stata una sorta di triunvirato Latella De Stefano Tegano triunvirato erano in quattro anche libri anche perché si scambiavano i killer per andare a fare delle azioni di fuoco per esempio Giovanni Puntorieri un killer pericolosissimo della cosca lo giudice e della cosca scusate Latella insieme a Pavilioniti a Domenico Pavilioniti a Gino Molinetti hanno commesso diversi numerosi omicidi anche fuori Reggio anche fuori Reggio si sta parlando dei soggetti che poi vengono spostati su Milano per molsi anni si vanno in trasferta a fare degli omicidi anche al nord per conto sempre dell'andrangheta e contro sempre dranghetisti pure bene tutto questo le viene raccontato nel momento in cui lei entra formalmente a far parte dello giudice no questo mi viene raccontato tutto questo mi viene spiegato e raccontato da quando io ho mi viene riconosciuto il grado di santista e quando lei diventa santista nel 2001 e 2002 mi perdoni però da picciotto camorrista a santista c'è un grado intermedio si però mi è stato dato per merito cioè spiega alla corte i vari passaggi mi è stato dato per merito perché avevo fatto già avevo commesso degli omicidi cioè lei sostanzialmente salta il grado di sgarrista si e questo si poteva fare si e a che condizioni si poteva fare si poteva fare a condizioni che c'erano dei meriti particolari e quali meriti aveva lei io avevo il merito purtroppo che avevo partecipato agli omicidi agli attentati che c'erano stati contro l'alme dei carabinieri che erano quelli diciamo i reati che avevo commesso più eclatanti e poi c'erano tutti il resto di reati quindi a me mi riconoscere su cui ci soffermeremo a lungo mi servono tutta una serie diciamo di elementi preliminari penso che lei questo l'abbia capito quindi diventato picciotto camorrista lei prosegue ovviamente la carriera all'interno di quel contesto criminale e arriva il momento in cui lei deve diventare sgarrista giusto? sì e allora ci ricordi le date no io non direi sgarrista aspetti villani ci ricordi le date lei diventa picciotto camorrista quando? nel 96 97 a seguito di quella cerimonia che ci ha raccontato prima sì normalmente normalmente si diveniva sgarristi dopo quanto rispetto a questo ma poteva secondo diciamo la carriera che si percorreva poteva poteva essere fatto pure sgarrista dopo un annetto dopo un po' di mesi sì quando la chiamano per avanzarla di grado? a me mi è stato data l'imbasciata da Giovanni Chilà nel 2001 2002 per diventare santista sì lei in quell'occasione ha detto a chi la chiamava a chi la informava che era stato diciamo programmato il suo avanzamento sì Giovanni Chilà mi spiegò un qualcosa praticamente loro avevano fatto la richiesta Giovanni Chilà aveva fatto la richiesta come famiglia lo giudice come cosca lo giudice a chi aveva fatto la richiesta? aveva fatto richiesta alla commissione diciamo dell'andrangheta quali mandamenti dell'andrangheta perché poi l'andrangheta dopo che c'è stata la pace si è diciamo formata con uno schieramento ben diverso dell'andrangheta tradizionale che c'era prima c'era poi si è stato formato il mandamento ionico il mandamento tirrenico e il mandamento di centro reggio bene quindi per arrivare diciamo all'avanzamento di grado che la riguarda Chilale dice che si erano mossi i vertici mandamentali si su richiesta di Giovanni Chilate lo giudice quindi su richiesta dello giudice sostanzialmente lo giudice dicono guarda dobbiamo avanzare uno dei nostri si autorizzateci a farlo si è così più o meno si chi sono i vertici mandamentali dell'epoca all'epoca io nella mia copiata porto come vertici mandamentali tirrenico Rocco Filippone mandamento tirrenico centro fa la rappresentanza Giovanni Chilà rappresentanza per conto di chi? per conto di De Stefano e mandamento ionico Antonio Barbaro di Platì di Platì infatti ce l'ho purtroppo in questa specie di carta d'identità che è la base ferme copiata ce l'ho nella copiata questo Giovanni Chilà a lei lo dice nel momento in cui hanno appena fatto la proposta o nel momento in cui invece poi lei diventa santista bypassando il grado di sgarrista no a me lo dice quando già era stato organizzato tutta la riunione quindi era stata già organizzata la riunione e dove si doveva svolgere e chi doveva presenziare nella stalla a Padaridi dove qualche anno prima era stato fatto il biciotto camorrista quindi lei diventa santista portandosi dietro la copiata formata dai tre soggetti che ci ha indicato prima le viene detto in quell'occasione se i tre soggetti che le sono stati diciamo indicati erano i vertici mandamentali in maniera così specifica o no mi era stato mi era stato detto che rappresentavano il mandamento i mandamenti i mandamenti sì lei ad esempio in relazione a Giovanni Chila lei dice in rappresentanza di in rappresentanza di De Stefano sì diciamo dello giudice il giudice però come mandamento di centro erano i De Stefano i De Stefano perfetto in relazione a Rocco Filippone sì lei viene detto qualcosa di più se Rocco Filippone rappresenta qualcun altro qualche altra famiglia qualche altro schieramento le dicono Rocco Filippone per il mandamento di Renico Rocco Filippone io già lo sapevo in precedenza che era diciamo uno degli uomini più importanti dell'Andrangheta in provincia di Reggio Calabria già da prima non nel 2002 2001 già da prima quindi quando lei sente il nome di Rocco Filippone mi era stato spiegato che Rocco Filippone rappresentava i Piromalli in certe occasioni l'era stato rappresentato da chi e quando ma intanto mi era stato rappresentato mi era stato spiegato da sua nipote da Giuseppe Calabro già in precedenza poi ho avuto conferma quando io ho avuto il grado di Santista che poi non è finita perché poi avanti nel 2004 2005 io ho avuto il grado di Vangelista benissimo e per questo io diciamo cerco di cadenzare diciamo i suoi avanzamenti quindi quando lei viene investito del grado di Santista e quindi entra a far parte della società maggiore è così? sì i tre nominativi che garantiscono per lei e questo è il senso della copiata giusto? sì sono Rocco Filippone per la Tirrenica che lei che lei già sapeva essere uomo dei Piromalli sì Giovanni Chilà rappresenta De Stefano come vertice del mandamento di Reggio sì e i Barbaro sono il vertice del mandamento ionico sì anche in relazione ai Barbaro le dissero qualcosa di più se rappresentavano altre famiglie ma i Barbaro diciamo rappresentavano il mandamento erano al vertice del mandamento ionico nel senso che c'era il benestare di tutte le altre famiglie della ionica per il mio avanzamento perché l'andrangheta funziona tipo un governo tipo uno Stato sì quindi non è che si facevano le cose dalla sera alla mattina così prima si mandavano le imbaciate c'erano le riunioni si discuteva c'erano le votazioni per me va bene per me non va bene si riunivano i capi nelle diverse zone e davano il suo consenso o dicevano no per noi non è meritevole quindi per lei era stato detto sì sì diventando santista che cosa era cambiato diventando santista è cambiato tutto nella mia vita negativamente è peggio perché intanto il santista mi era stato spiegato da Giovanni Chilai e in parte anche da Nino lo giudice che erano i miei maestri negativo sul lato dranghetista era un grado infame detto così un grado infame perché le regole le avevano messe diciamo gente storica che portava le divise come Garibaldi e via dicendo quindi era però un grado che serviva all'andrangheta per fare il salto di qualità qual era il salto di qualità da fare dell'andrangheta perché l'andrangheta una volta prima era diciamo come una cosa rudimentale tradizionale era chiusa in un cerchio con il grado di santista che è stato diciamo creato con il consenso di Paolo del boss penso che sia stato uno dei boss più temuti e più potenti della città di Reggio Carabba ma di tutta l'interandrangheta di Paolo De Stefano con Paolo De Stefano negli anni settanta viene fuori questa regola che diventa un grado che viene che viene chiamato santa sta santa in pratica mette l'andrangheta fuori dal cerchio dove era rimasta chiusa e l'andrangheta può avere contatti tramite il santista con esponenti delle istituzioni esponenti del diciamo uomini politici diciamo sotto ogni forma poteva inserirsi nel tessuto sociale di ogni società che c'era come poi è stato come poi ha fatto e questo è avvenuto anche per lei nel momento in cui è diventato santista assolutamente sì però c'era stato un discorso che praticamente già nella mia famiglia nella cosca lo giudice c'erano state delle evoluzioni particolari sul senso che c'erano dei contatti con personaggi ambigui che rappresentavano in modo negativo le istituzioni sì e io diciamo già sapevo che c'erano queste persone che erano tra virgolette traditori delle istituzioni che favorivano la cosca la mia famiglia la cosca lo giudice ma io essendo che lei già sapeva anche prima di diventare santista diciamo in grandi linee come potevano andare delle cose come era il mondo diciamo in generale dell'andrangheta no approfonditamente sì qualcosa sapevo però non era non ero stato un discorso approfondito perché non lo potevo lo approfondisce quindi dopo sì e che cosa le viene detto e da chi viene detto che praticamente l'andrangheta gioca con tante mazze di carte nel senso che che l'andrangheta va a discutere diciamo alla pari con le istituzioni che sono che sono traditori i servizi segreti deviati i massoni i politici deviati lo stato deviato perché l'andrangheta è uno stato nello stato è un antistato però è uno stato è uno stato io ho vissuto in uno stato a parte io ho vissuto in uno stato in Italia che era un antistato cioè l'antistato erano i lo giudici erano l'andrangheta io ho vissuto così per quello che lei poi apprende nel momento in cui diventa santista come si collocavano i lo giudice in quegli anni quindi siamo nei primi anni 2000 giusto? sì nel panorama criminale cittadino allora i lo giudici nei primi anni 2000 diciamo fanno un salto di qualità perché? perché Nino lo giudice lega tantissimo Nino lo giudice è stato detenuto fino al 97 1997 esce dal carcere di Bochera quindi mi perdoni Villani quindi quando finisce la seconda guerra di mafia nel 91 Nino lo giudice è detenuto sì ma manda un'imbasciata che non vuole fare pace bene e questo infatti lei ce l'aveva detto sì manda un'imbasciata che nessuno dello giudice deve fare pace e viene scarcerato solo nel 97 nel 97 quando esce cosa succede? quando esce cambiano un po' di cose si rafforza di nuovo e si ricompatta diciamo così la cosca allo giudice che poi vediamo spiegherò meglio che è una sorta di cosca invisibile diventa dopo ma diventa più invisibile più potente più pericolosa di altre cosche che si potevano combattere più facilmente lo spiegherò dopo sì praticamente stavo dicendo che Nino lo giudice esce nel 97 e si ricompatta piano piano la cosca lo giudice si ricompatta anche se nel 99 abbiamo un problema di collaborazione all'interno della cosca nostra lo giudice con il fratello di Nino lo giudice Maurizio lo giudice che però viene gestito in una certa maniera e non fa e non fa danni più di quanto ne avrebbe potuto fare ma viene gestito in una certa maniera da chi mi perdoni? ma viene gestito in una certa maniera da lo giudice in particolare da Luciano lo giudice e anche dopo da Nino lo giudice e di quello che io ho visto e di quello che io ho capito da qualche personaggio delle istituzioni compiacenti per tappare la bocca a Maurizio lo giudice nelle dichiarazioni che Maurizio lo giudice fa quindi lei dice che Maurizio lo giudice è gestito in quel modo non diventa un problema assolutamente no e infatti si è visto eravamo tutti liberi e allora se lo sa perché decise di collaborare con la giustizia? io se lo sa perché Maurizio lo giudice allora decise di collaborare comunque con la giustizia? ma Maurizio lo giudice decise di collaborare con la giustizia perché la famiglia l'aveva ripudiato in parte perché faceva delle scepenze faceva delle cose che non non erano compatibili e non rientravano nelle regole d'indranghe da vere e proprie quindi l'aveva un po' messo da parte quindi per problemi interni alla famiglia sì sì lei ha fatto riferimento anche un attimo fa a Luciano lo giudice già in quegli anni sì lei ha detto 99 sì chi è Luciano lo giudice in quegli anni? in due parole Luciano lo giudice non è stato mai un azionista però è stato sempre un grande imprenditore una macchina per fare soldi ed era la cassa della cosca lo giudice vera e propria quindi aveva disponibilità di denaro fatte con soprattutto con l'usura e con l'intestazione facendo a terzi fare l'intestazione dei benefitizi riciclando il denaro che si era fatto in precedenza con le estorsioni e con la droga e con l'usura questo denaro la cosca lo giudice la mia famiglia lo ricicla e lo investe in attività visibilmente pulitissime quindi era l'ala economica della cosca lo giudice stiamo parlando del fratello di Nino sì sì il fratello di Nino diciamo è il pupillo di Nino sì bene lei ci stava spiegando prima che quindi diventato santista viene in possesso di tutta una serie di informazioni sì che prima non aveva sì che le consentono anche di capire come si collocano i lo giudice sì nel panorama criminale sì regino in quel momento storico i lo giudice sono in qualche modo sottoposti al controllo di altre famiglie allora in quel periodo i lo giudice praticamente fino a che uscisse Nino lo giudice Bruno Stilo con Domenico lo giudice il cugino figlio di Vincenzo con Fortunato Pennestri diciamo avevano gestito la situazione si erano messi d'accordo affinché si dividessero diciamo le varie attività sia di estorsione le varie attività di imprenditoria della cosca lo giudice nel quartiere di Santa Caterina San Brunello Porto e di Vito insieme si erano divisi insieme ai soggetti che io ho indicato prima come appartenenti affiliati dei Tegano De Stefano in una riunione è avvenuta a Vito quindi lo giudice fino a che esce Nino lo giudice ufficialmente gestiscono insieme ai Tegano De Stefano gestiscono il locale di Santa Caterina ma non erano lei ci ha spiegato prima che non erano diciamo d'accordo con la pace del 91 no quindi quando invece la pace si fa in quell'anno i lo giudice come vengono collocati i lo giudice vengono collocati sotto il Condello e ci spieghi allora praticamente è Pasquale Condello che vuole che manda l'Imbasciata affinché ai lo giudice li possa garantire lui come garante in questa riunione pacificatoria e praticamente lo giudice come ho detto prima Nino lo giudice il capo della cosca all'inizio non voleva e tutto comunque dopo si è decisi si è deciso Nino lo giudice ha mandato il suo star bene con alcune cose che Pasquale Condello gli proponeva a favore anche per dopo quindi comunicavano col carcere sostanzialmente si comunicavano Nino lo giudice comunicava attraverso i nostri familiari fuori con Coni Condello soprattutto attraverso Giovanni Fontana che vuol dire attraverso Giovanni Fontana stiamo parlando di una persona all'epoca cugino di Pasquale Condello all'apice della cosca Condello diciamo all'epoca Volevo capire che vuol dire attraverso Giovanni Fontana visto che lo giudice era detenuto attraverso Giovanni Fontana perché Nino lo giudice riusciva a far arrivare le imbasciate a nostri familiari come per esempio a Domenico lo giudice il figlio di Vincenzo o a Fortunato Pernestri o quando sono usciti i fratelli a qualche fratello suo e questi si recavano da Giovanni Fontana e gli portavano le notizie le novità e si rendevano le notizie le novità da parte di Condello ho capito quindi Giovanni Fontana faceva da tramite sostanzialmente ci spieghi meglio che cosa vuol dire che nel momento in cui si giunge al riassetto cittadino alla fine della seconda guerra di mafia il giudice sono sotto il Condello ce lo spieghi meglio intanto ci dico una cosa Villani per quello che le risulta nel momento in cui si giunge alla pace l'andrangheta regina si ricompatta assolutamente sì di nuovo si ricompatta però ci sono delle novità che avvengono nei locali in pratica i locali vengono rappresentati da tutte e due le fazioni diciamo tutte e due le consorterie malavidose di Stefaniani e Condelliani quindi un corpo e due teste un corpo e due teste e poi ci doveva essere l'ago della bilancia in ogni locale una persona garante che non si arrivi di nuovo allo scontro tra i due schienamenti quindi questo è l'assetto che lei conosce sì e lo giudice quindi sotto Condello che vuol dire vuol dire che sicuramente lo giudice non poteva essere paragonato a Pasquale Condello perché Pasquale Condello a livello di merito a livello criminale a livello di carisma aveva superato aveva superato come potenza e come importanza Nino lo giudice sicuramente e rappresentava l'andrangheta della città insieme a Ede Stefano come ho detto prima a Ede Cano quindi sotto il Condello perché Pasquale Condello gli propose a Nino lo giudice alcune cose che lo potevano gli potevano interessare a mio cugino a Nino lo giudice lo avrebbe fatto diventare suo rappresentante a tutti gli effetti non solo a Santa Caterina ma a Santa Caterina come schieramento condelliano fino a tutto il reggio centro lo doveva rappresentare mio cugino Antonino lo giudice anche perché Antonino lo giudice cura la latitanza di Pasquale Condello per un po' di anni quindi è un uomo legatissimo a Pasquale Condello molto legato no e ovviamente cura la latitanza di Pasquale Condello in epoca successiva al 97 sì ora in quegli anni lei diciamo è un lo giudice di peso già sì che cosa le spiega Nino lo giudice rispetto al suo ruolo e al ruolo della sua famiglia oltre diciamo al suo legame con Pasquale Condello allora lui in quel periodo praticamente parlando sempre di Condello lui era diciamo favorevole a voler rappresentare Pasquale Condello però si deve scontrare con i fratelli perché parliamo di dieci fratelli se se non che è un numero sostanzioso di fratelli che non accettavano le proposte di Pasquale Condello loro volevano stare al di fuori non volevano fare parte ma non volevano fare parte nel senso come devo dire devo trovare la parola giusta per spiegarmi bene non volevano diventare una vetrina per le forze dell'ordine nel senso che volevano stare dietro le quinte perché quindi non volevano avere un ruolo troppo visibile possiamo dire così loro erano un drangheta ma non volevano un ruolo troppo visibile assolutamente sì e si era rimasti in un modo allora non accettare le proposte di Pasquale Condello e questo poi fece Nino lo giudice mio cugino e siamo rimasti tutti quanti a dire se viene toccato un lo giudice da qualsiasi famiglia arriva noi tocchiamo tutti quanti questo è l'accordo che si fa una specie di accordo che si fa in famiglia nessuno deve toccare un lo giudice perché i lo giudice si ricompattano e si scontrano i lo giudice erano tanti all'epoca tantissimi quindi era un gruppo numeroso di soggetti sì numerosi azionisti tutti quasi tutti azionisti sì nel momento in cui Nino lo giudice dice a Pasquale Condello guarda la tua proposta non la posso accogliere perché mi hanno messo in minoranza che cosa succede in relazione a quel rapporto ma il rapporto inizia a deteriorarsi un pochettino piano piano inizia a deteriorarsi in quali anni siamo che il rapporto si deteriora ma siamo nel 2004 per giù 2004 2005 pur rimanendo legati lei dice il rapporto si deteriora il rapporto si interrompe no no alla fine diciamo alla fine fine poi non è che si interrompe c'è una sorta di falsa politica che è la classica usanza dell'andrangheta falsa politica buon viso a cattiva sorte si fa sia loro i condello a noi e sia noi ai condello benissimo e posso poi spiegare più avanti anche perché l'influenza dello giudice dove poteva arrivare anche dopo lo deve spiegare ora si se è possibile va bene intanto prima di spiegarlo mi dica una cosa nel 2004 2005 lei ha già il Vangelo o è ancora Santista nel 2004 2005 io vengo riconosciuto come Evangelista quindi siamo esattamente in quel periodo lì si che cosa diciamo significava e ovviamente che tipo di informazioni ulteriori lei poteva avere diventando Evangelista perché già Santista era un ruolo molto alto ma già alcune informazioni un po' particolari mi erano state spiegate già dopo che io ho avuto la Santa ma erano stati spiegati in maniera superficiale conoscendo diciamo il mio modo di ragionare perché per me io ero entranghetista non ero non giocavo con due mazzi di carte giocavo solo con un mazzo di carte quello dell'andrangheta ma invece io lo giudice e Luciano lo giudice mi volevano far capire che bisognava giocare come poi spiegherò giocavano loro con due mazzi di carte e ce lo spieghi quindi lei a un certo punto diventa evangelista la sua carriera questo lo possiamo affermare comparandola diciamo ai tempi di altri soggetti di indrangheta è una carriera velocissima sì perché è velocissima io anche quando sono stato riconosciuto con il grado di evangelista diciamo che mi hanno spinto di nuovo ad avere un grado superiore perché avevo un curriculum diciamo in questa maniera criminale di tutto il rispetto ma non per il numero ma di tutto il rispetto perché venivo riconosciuto come un soggetto che aveva fatto un'azione eclatante e in pratica dopo io ho seguito questa carriera di indrangheta e lo dimostravo dimostravo l'azione e Villani l'azione eclatante in realtà sono tre azioni sì sì io parlo in generale quindi lei sta abbinando diciamo tutti e tre gli episodi che coinvolgono l'arma dei carabinieri sì ma poi c'è l'azione di cui lei parla giusto non ho capito quella è l'azione di cui lei parla l'azione eclatante sì sì perché tutte le altre azioni vengono messe tutte in secondo piano mi risponda a questa domanda quindi se quell'azione viene valutata come titolo per avanzare in un contesto criminale di indrangheta quella è un'azione di indrangheta assolutamente assolutamente perché vengono riconosciuto allora dottore io voglio spiegare una cosa che praticamente qualsiasi indranghetista di qualsiasi famiglia si permetteva a toccare un uomo delle forze dell'ordine senza nessun bene placido sì che doveva arrivare dall'alto quel soggetto veniva eliminato fisicamente dell'andrangheta fisicamente eliminato fisicamente eliminato non poteva andare più avanti assolutamente ma eliminato dai propri familiari dalla propria famiglia oppure altri vicini lo eliminavano bene e allora fermiamoci ancora diciamo alle sue conoscenze a questo punto da evangelista lei dice mi dicono altre cose mi svelano altri particolari sì che mi consentono di capire anche a ritroso come si collocano i lo giudice appunto in questo contesto complesso che riguardava l'andrangheta reggina sì e che cosa apprende ma apprendo che praticamente i lo giudice hanno dei contatti con personaggi delle forze dell'ordine che dell'istituzione facevano parte lavoravano per l'istituzione però erano dei traditori in pratica a soldo della cosca lo giudice avevano da fare con anche addirittura di quello che io sentivo e sapevo con qualche magistrato avevano da fare con gente che io poi ho visto personalmente che faceva parte a detta di Nino lo giudice dei servizi segreti deviati nel momento in cui lei diventa evangelista sì è al fianco di Nino lo giudice giusto? io divento purtroppo per me il braccio destro di Nino lo giudice in tutti i sensi sostanzialmente quindi Nino lo giudice in quegli anni e fino al 2010 le svela tutto quello che lo riguarda quello che gli conveniva più che altro quello che gli conveniva certo perché non poteva svelare tutto quanto perché stiamo parlando di un di un giudice aveva il quartino voglio dire io ero evangelista e nell'andrangheta i ruoli si devono i ruoli dei gradi si devono rispettare anche tra familiari anche tra parenti perché e diciamo queste formalità stupide e cretine hanno di base la segretezza quindi nel momento in cui lei diventa evangelista Nino lo giudice al quartino significa che è un grado superiore al suo assolutamente sì Nino lo giudice era il capo riconosciuto da tutti quanti bene ora le chiedo di soffermarsi su appunto quei dettagli che lei ha soltanto accennato che però lei inserisce diciamo per farci capire che i lo giudice erano una cosca di indrangheta un po' particolare un po' con dei legami che poi erano i legami tipici diciamo della santa e dei gradi successivi sì e che cosa apprende diciamo Danino lo giudice in relazione a quei loro legami Danino lo giudice è anche da Giovanni Chilà poi in un secondo momento però Danino lo giudice apprendo tante volte parlavamo e lui mi spiegava che praticamente l'indrangheta non era tutto quello che noi conoscevamo non era tutto quello che si vedeva perché per essere indranghetisti al cento per cento di potere di comando al di sopra di tutti quanti bisogna essere massoni se non si arriva alla massoneria non è un'indrangheta totalmente autonoma di comando quindi inizia a spiegarmi delle cose che io sapevo in modo superficiale così ed entra nei particolari ed entra in particolari che ci sono dei soggetti dice che sono uniti all'indrangheta sono uniti a Cosa Nostra sono uniti alla Camorra che diciamo che sono le mafie più pericolose più conosciute d'Italia e non solo mi pare e praticamente sono soggetti che fanno parte dei servizi segreti dei viati soggetti che appartenevano a forze dell'ordine appartenevano alle istituzioni e ragionano apparentemente per l'istituzione ma interiormente contro lo Stato italiano nel senso che ci sono in tutti i posti sorgono delle azioni destabilizzanti della democrazia italiana in poche parole mi indica due soggetti c'è uno pericoloso uno straccione un mercenario è pericolosissimo ed è brutto me lo indica nel peggiore modo immaginabile e impossibile che si possa descrivere una persona in compagnia di una di una donna diciamo bionda che poi perché dico bionda con i capelli lisci sulle spalle perché poi li vedo e lo spiegherò dopo e mi indica che questi due sono una coppia terribile che ma c'è stata sì perché Nino lo giudice che aveva un grado superiore al suo ad un certo punto all'esigenza di diciamo confessarle l'esistenza di questo livello e di questi soggetti perché Nino lo giudice lo poteva fare benissimo già subito dopo la santa mi poteva spiegare tutto questo che mi stava e non lo aveva fatto e non lo aveva fatto perché capiva il mio il mio orientamento il mio modo di ragionare che non accettavo determinate cose però inizia a farlo perché dici tu devi sapere come va la situazione oggi domani capita qualche incontro oggi domani capita un qualcosa inizia a prepararmi eventualmente a una cosa del genere e io giustamente ascolto certamente a molti mi sembravano cose che dico però ascoltavo incameravo memorizzavo e cercavo quindi questi racconti iniziano dal 2004 2005 in poi sì da quando lei diventa evangelista sì sì prima mi aveva riferito qualche cosa però oggi mi faccia capire un'altra cosa ma c'era stato qualche episodio particolare sì c'erano state ad esempio anche delle vicende processuali che in quegli anni si celebravano che spinsero lo giudice a dirle questa cosa vicende processuali c'erano allora praticamente lei parla perché c'è stato pure il discorso del mio processo ecco sì praticamente quando allora quando lui mi raccontava determinate cose si parlava di determinate cose io cercavo di spiegargli quello che un po' purtroppo era accaduto cercavo di andare a finire sempre sul su questi attentati fatti nei confronti dei carabinieri bene però Nino lo giudice ogni qualvolta quindi in quegli anni lei diventa evangelista e il processo che la riguarda per gli attentati ai carabinieri da lei commessi diciamo episodi da lei consumati quando era ancora minorenne sì non si era ancora concluso assolutamente no no però lui cercava di aggiustarlo il processo e come voleva aggiustarlo tramite l'avvocato Gatto tramite tramite il giudice Neri cerchiamo di capire sì quindi in quegli anni il suo processo che poi si concluderà se non ricordo male con la sentenza definitiva nel 2010 è vero? sì lei inizia a collaborare con la giustizia che ancora la Cassazione non si è pronunciata no è in corso di celebrazione sì e lo giudice in quello stesso periodo le parla di una serie di episodi di una serie di situazioni di una serie voglio dire di circostanze certamente molto rilevanti molto riservate sì è così? sì sì assolutamente lei fa riferimento adesso all'avvocato Gatto sì che la assisteva? sì era il suo avvocato? sì me l'ha fatto mettere lui mi ha portato nello studio dell'avvocato Gatto ci siamo seduti e diciamo che l'avvocato Gatto con Nino lo giudice aveva un rapporto di confidenza a vicenda e lui Nino lo giudice lo colloca come un referente legato ai servizi segreti dei viati lo colloca nel senso che le dice questa cosa? sì che mi dice che praticamente è un personaggio ambiguo di stare attenti anche Peppe Religuato me lo dice che bisogna stare attenti con l'avvocato Gatto però mi dice l'unico che può aggiustare il tuo processo che si deve celebrare l'appello e siamo andati mi perdoni ma cosa c'era da aggiustare in quel processo? per farmi prendere la minor condanna possibile quindi era questo lo scopo sì che si perseguiva assolutamente in quel periodo storico il processo pendeva in appello sì e l'appello passò in mano del se non ricordo male del procuratore generale d'appello era il dottore Neri e praticamente il loro giudice dice guarda è un grande amico di Lorenzo Gatto andiamo a parlare con lui anche perché ti voglio mettere a Gatto come avvocato io avevo l'avvocato Piolo e questa cosa avviene sì quindi lei va nello studio del legale sì e in quell'occasione che cosa emerge? emerge che lei partecipa all'incontro in quello studio? io Nino lo giudice e l'avvocato Gatto cosa emerge? praticamente io gli espongo i lati più o meno del processo Nino lo giudice gli dice l'avvocato solo lei può fare qualcosa per far prendere il meno possibile di anni a mio cugino vedete un po' se può intercedere perché so che lei è molto legato al dottore Neri che è il procuratore generale in questo caso io sono disposto a dargli una bella quantità di denaro purché lei porta a complimento diciamo il cambio di questo processo ora Villani io la invito a fare questa operazione ora dobbiamo tornare a ritroso sì proprio perché come lei sa ovviamente essendo stato citato in questo dibattimento dobbiamo ricostruire quello che lei ha vissuto in relazione appunto a quell'azione eclatante che poi sono i tre attentati ai danni di appartenenti all'arma dei carabinieri mi segue? sì e vorrei che lei facesse questa ricostruzione partendo da un episodio noto e rilevante sì il fatto che nel processo di appello a un certo punto proprio su richiesta dell'avvocato Gatto viene introdotto il collaboratore Gaspare Spatuzza sì prego viene introdotto Gaspare Spatuzza che io ho saputo dopo praticamente perché Gaspare Spatuzza parlava di un legame di queste attentate dei carabinieri con le stragi avvenute in Sicilia e le stragi avvenute diciamo a Roma a Milano cioè le stragi continentali cioè che l'andrangheta e Cosa Nostra erano scesi in un accordo Presidente mi scusi sulle dichiarazioni di Spatuzza insomma sta riferendo il collaboratore va bene non può riferire il collaboratore sulle dichiarazioni di Spatuzza però era no scusi va bene quindi viene introdotto Spatuzza sì perché viene introdotto Spatuzza lei è in grado di dirlo sì io ero imputato nel processo e Spatuzza viene introdotto perché dice una storia diciamo in parte di non diversa nuova di questi avvenimenti che erano lei si ricorda come viene introdotto spatuzza e su richiesta di chi no non mi ricordo non si ricordo no le venne anticipato da chi la assisteva che era sua intenzione fare una richiesta di questo tipo assolutamente no e allora io adesso le chiedo a ritroso come le ho detto prima Villani sì di spiegare alla corte quello che lei ha vissuto in relazione ai tre episodi oggi in contestazione sì e soprattutto le chiedo di spiegare una circostanza sì perché noi ci conosciamo da anni e sa che a me piace la chiarezza sì perché lei quello che sa non lo dice e come faccio nei 180 giorni dall'inizio della sua collaborazione sì e come faccio a dirlo nei 180 giorni io ero allora a me era stato negato totalmente di parlare degli attentati ai carabinieri da parte di mio cugino quella negazione suo cugino e Nino Lo Giudice Nino Lo Giudice a me chi mi garantiva l'incolumità di dire determinate cose guardi che con tutto il rispetto che ho per lo Stato Italiano per l'amore di Dio e per chi lo rappresenta ma il sistema non è che funziona così egregiamente alla grande e io lo avevo già intravisto io non ho non l'ho detto prima per semplicemente paura dei miei familiari e soprattutto delle mie figlie assolutamente non l'ho detto prima apposta però ho tenuto ho tenuto ma non potevo più resistere a tenere dentro una situazione del genere infatti quando poi sono stato chiamato nel senso chiamato ho avuto un interrogatorio dove io avrei potuto continuare a dire è andato in quella maniera perché ero passato in giudicata la sentenza era passata in giudicata io la stavo scontando e allora a quel punto mi è stata rivolta una domanda quale domanda i tre agguati avvenuti contro i carabinieri la verità è quella? certo quando mi è stata rivolta questa domanda non sapevo quello che dovevo fare le dico la verità non sapevo se dovevo fidarmi o non dovevo fidarmi perché purtroppo sono ho visto ho vissuto delle cose inimmaginabili ho sentito delle cose inimmaginabili ma possiamo morire tutti e allora a un certo punto dice noi andiamo mi è stato detto dal dottore Donaddio e da un generale dei carabinieri che lo accompagnava non andiamo se è così le ho detto io un attimo si fermi la storia dei carabinieri purtroppo come è avvenuta la modalità è quella ma non è il movimento non è quello non è stato in quella maniera l'organizzazione e tutto quello che c'è stato non è stato come io ho riferito all'inizio dice come non è stato in quella maniera noi io e Giuseppe Calabro le azioni contro i carabinieri sia dal primo momento del 3 dicembre 93 che del 18 gennaio 94 che se non mi sbaglio ho del primo febbraio del 2 febbraio 94 non l'abbiamo fatto io l'ho fatto perché Calabro è venuto a casa mia e mi ha fatto un'esplicita richiesta dobbiamo uccidere dei carabinieri e allora questa è stata la richiesta che mi è stato fatto siccome Calabro sapeva che io volevo scalpitavo perché mi dovevo mettere in evidenza e allora raccorsi subito dico e qual è il problema purtroppo scusate se io mi permetto di dire oggi così ma queste sono le parole che io in quel momento capivo tanto e tanto facevo Villani adesso non dobbiamo avere fretta perché lei vive in prima persona tutto quello che in questa sede assume rilevanza processuale io partirei da diciamo un primo riferimento che lei fa e cioè che Nino lo giudice lei dice tu di quegli episodi non devi parlare quando glielo dice in quale occasione e soprattutto che cosa le spiega sulle ragioni del silenzio allora praticamente Nino lo giudice io da quando Nino lo giudice è uscito dal carcere io cercavo quindi 97 bene io cercavo di lei tra il 93 94 e il 97 Nino lo giudice non lo incontra mai assolutamente non lo posso incontrare perché mi perdoni assolutamente non significa niente o assolutamente sì o assolutamente no assolutamente no la ringrazio non lo incontra mai no quando lo incontra per la prima volta in che occasione lo incontra e di che cosa parlate sì io la prima volta che lo vedi sono stato il primo che lo vedi subito dopo che lui uscì dal carcere di Voghera e lo incontrai a Mortara di provincia di Pavia la prima volta che lo vedi lì si parlò del più e del meno e anche lì cercai di fare qualche accenno qualcosa disse non è momento non è posto lei cercò di fare qualche accenno sì sì o lui no 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 lui su queste su queste cose ogni tanto faceva qualche domanda quando io andavo a rispondere qualcosa e diceva non dire niente non dire niente quindi lei cercò subito di dire determinate cose e Nino lo giudice la stoppava sì lei è in grado di dirci oggi se Nino lo giudice la stoppasse perché già sapeva o per altri motivi guardi io sono stato sempre convinto che Nino lo giudice sapesse tutto di tutto la dinamica come era andata sapeva tutto perché addirittura non mi spiegavo perché nessuno mi aveva fatto del male nessuno mi aveva toccato e c'era stata anche diciamo mi era stato anche detto che c'era stata c'era stata fatta una riunione su questi fatti dove prima di questi fatti sì dove praticamente si prendeva diciamo si prendevano determinati accordi allora l'accordo la riunione dove avvenne chi partecipò e quali decisioni vennero prese per quello che risulta a lei e poi ci spiega lei come lo sa sì ma in particolar modo a me spiegò tutti i particolari non i giudici in parte ma Giovanni Chilà queste riunioni questa riunione avvenne nella piana di Gioia e Tauro sì parteciparono diciamo i personaggi che all'epoca cioè all'epoca che rappresentavano l'andrangheta in tutto e per tutto sia in Calabria sia fuori parliamo dei De Stefano di Reggio Calabria in particolare mi è stato detto che ci fu Peppe De Stefano addirittura personalmente soggetti appartenenti ai Piromalli e soggetti come un capo carismatico come diciamo dei capi carismatici di Cosa Nostra siciliana siciliana dico questo perché dobbiamo tornare un attimo indietro e devo dire che nella pace che c'è stata a Reggio Calabria la spinta per fare la pace a Reggio l'ha data Totò Riina Salvatore Riina è venuto a Reggio si è rivolto ai De Stefano si è rivolto ai Piromalli si è rivolto a tutte famiglie di importanza strategica dell'Andrangheta per fermare sta guerra ma l'obiettivo qual era? era fermare la guerra però allo stesso tempo prendere degli accordi perché Totò Riina voleva portare l'Andrangheta unitamente tutta l'Andrangheta a fianco di Cosa Nostra a partecipare a queste stragi che erano stati già diciamo pensati effettivamente la prima cosa che era stata pensata e poi è stato fatto anche il piacere dai De Stefano per quello che io so dai miei familiari c'è stato l'omicidio del giudice Scopelliti da lì viene fatto l'accordo tra una parte di Andrangheta e Cosa Nostra ma una parte di Andrangheta strettissima perché il resto dell'Andrangheta non ha voluto partecipare a questa diciamo a queste azioni invece gli arcoti i De Stefano in collegamento con i Carofalo in collegamento con i Piromalli decidono di favorire Totorrina da Salvador e Rino Senta ma in quale occasione le svelano diciamo questa riunione e soprattutto mi interessa capire se diciamo le parlano della riunione dopo che lei insomma aveva affrontato il tema degli attentati carabinieri si parlava più o meno si parlava diciamo di questi di questi di questi eventi perché ogni volta che si parlava di questo evento mi stoppavano ma a volte Nino lo giudice soprattutto Giovanni Chilà mi spiegava che praticamente c'erano state delle riunioni tra come ho detto prima Cosa Nostra e l'Andrangheta in parte questo mi veniva riferito l'Andrangheta in parte partecipò ad alcuni ad alcune azioni eclatanti contro lo Stato però non mi specificarono mai che l'attentato di carabinieri era inquadrato in questa strategia non me lo dissero mai a tutti gli effetti gli attentati dei carabinieri sono stati inquadrati in questa strategia mi è stato detto che sono state fatte queste riunioni mi è stato detto che Salvatore Rina aveva come ho detto prima messo la buona parola per la pace che i calabresi calabresi come parliamo dei De Stefano in accordo dei Caronfalo dei Pieromalli poi gli fecero il favore di uccidere Antonino Scopelliti il magistrato della Cassazione da lì ci sono state degli accordi presi tra Drangheta e Cosa Nostra a fare delle azioni contro questo mi veniva detto contro le istituzioni contro lo Stato e in queste diciamo partecipavano elementi dei servizi segreti dei viati che erano artefici anche in queste determinate azioni mi faccia capire una cosa lei aveva iniziato a spiegare la fase in cui Nino lo giudice viene scarcerato e lei lo incontra per la prima volta lei dice io in quell'occasione volevo già parlare di determinate cose e non mi è stato consentito no quando poi lei parla con Nino lo giudice per la prima volta di questi argomenti ma a volte ho cercato pure dopo di aprire di nuovo il discorso ma Nino lo giudice lo stoppava come vi sto dicendo anzi addirittura mi diceva non parlare non ne parlare con nessuno chiudi questo ragionamento non dire niente quindi lei accennava cioè lei entrava sull'argomento sì cercavo di entrare con il discorso dicendo che cosa dicendo che cosa entrava sull'argomento lo sai quello che io ho combinato lo sai quello che c'è stato perché volevo sapere pure io diciamo che com'era la situazione se sapevo qualcosa e lui mi diceva zitto non parlare non dire niente guarda che ci sono le registrazioni non dire nulla è pericoloso stai attento stai attento anche se ti fermano i carabinieri ti possono pure ammazzare senta lei aveva vissuto tutto il processo e sostanzialmente lei ci sta dicendo oggi tutto quello che era emerso nel processo non corrispondeva poi alla strategia reale assolutamente no no perché la strategia reale qual era da chi l'aveva presa e quando lei viene a conoscenza di quello che è diciamo il vero movente dell'azione o meglio delle azioni sì praticamente come vi ho detto avevo stretto rapporti con i Calabro prima con Calabro Francesco e con la sua famiglia e in un secondo momento con Calabro Giuseppe che era il fratello a livello pure vicino a casa mia a livello criminale Calabro in quegli anni quindi siamo tornati ai primi anni 90 come si collocavano? ma a livello criminale Calabro cercava di si era avvicinato tanto ai l'Atella Figara sì però poi c'è stata un'occasione particolare che i Figara e l'Atella avevano trattato male il padre sì e si erano allontanati il padre Giacomo Santo il padre di Calabro sì e si erano allontanati dove lì a Calabro Giuseppe scatta la vendetta nei confronti di alcuni affiliati che in alcuni casi sto pagando pure io perché ho commesso reati insieme a lui contro affiliati della cosca Figara e scatta questa sorta di vendetta contro i Figara e la Tella noi parlo io come lo giudice ma nel momento in cui Calabro si distacca dai Figari e la Tella a chi si avvicina? a noi cioè diventa lo giudice? sì diventa lo giudice perché lui aveva uno scopo all'inizio vendicarsi dei La Tella e la Figara e allora io abitanti a Ravagnese una zona di influenza la Tella Figara ero visto come un nemico dai la Tella Figara perché io ero uno giudice allora Calabro lo sapeva benissimo quindi Calabro si avvicinò a noi anche a scopo di dargli di avere una forza però voglio sottolineare una cosa che in se stesso Calabro non c'era il bisogno di avvicinarsi a noi per avere una forza perché quante volte il padre aveva avuto problemi il padre si rivolgeva sempre al suo cognato chi è il cognato? al suo cognato Rocco Filippone di Melicucco si rivolgeva sempre a lui e lui doveva mandare imbasciata tramite il tegano sempre hai la Tella di farla finita quindi mi perdoni intanto mi faccia capire che tipo di problemi poteva avere Giacomo Santo Calabro come? lei ha detto quando aveva problemi il padre di Giuseppe Calabro vorrei capire quali problemi aveva quindi Giacomo Santo Calabro che lo portavano a rivolgersi a Rocco Filippone Giacomo Santo Calabro ha avuto il problema di uno sbancamento per uno sbancamento che ha fatto dove lui abitava in via Mortara di San Gregorio stava facendo uno sbancamento con le proprie forze senza chiedere il benestare a Vincenzo Figara all'epoca a Pino Figara a Illatella Figara che diciamo dominavano comandavano avevano le proprie ditte e sto smacco sto sgarro che Giacomo Calabro aveva fatto diciamo non gli è andata giù quindi c'erano state problematiche sempre in un ambito criminale riconducibile all'andrangheta del luogo sì Calabro Giacomo Santo che attività svolgeva? Calabro Giacomo Santo era un appaltatore un appaltatore sì e mi spiega meglio voglio dire se i problemi erano nella zona di origine dei Calabro mi pare di aver capito era Lavagnese Saracinello che cosa centrasse il rapporto con Rocco Filippone ma centrasse come? noi stiamo parlando di una persona che rappresentava l'apice dell'andrangheta soprattutto nell'ambandamento di Renico centrava come? diciamo che lui parlava alla pari con Giovanni Tegano lui parlo di Rocco Filippone stiamo parlando di una persona che faceva il garante tra i bellocco e i pesce stiamo parlando di una persona che ha cresciuto i piromalli stiamo parlando di una persona di un alto spessore criminale quindi quando Giacomo Santo tutte cose che lei apprende in relazione all'altissimo spessore criminale di Filippone in che modo e da chi? li apprendo intanto li apprendo da Calabro Giuseppe quindi già all'epoca sì 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 e poi mi vengono confermati quando io ho i gradi d'indrangheta perché anche nel grado di evangelista io porto ancora sempre la copiata di Rocco Filippone e Antonio Barbaro quindi lei trascina anche quando diventa evangelista quella che era la copiata della Santa sì 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 quindi quando Calabro non voleva ogni volta Calabro Giacomo Santo non voleva ogni volta disturbare il cognato ma quando non poteva fare del meno lo trovava e il cognato mandavano l'imbasciato e si calmavano tutti stavano tutti tranquilli e si andava avanti per quello che lei ha percepito direttamente sì perché poi sono diventato un fraterno amico di Calabro Giuseppe frequentatore della casa frequentatore e sapevo anche dei problemi della casa Calabro bene Villani allora fermiamoci un attimo lei ci ha detto prima inizio a frequentare Calabro partendo da Calabro Francesco stiamo parlando poi della persona scomparsa il cui cadavere è stato rinvenuto in fondo al porto di Reggio Calabria è corretto sì sì e poi subito dopo di Calabro Giuseppe sì con queste persone lei dice anche prima degli attentati e danni dei carabinieri avevamo consumato delle azioni criminali sì è così sì sì le posso anche indicare quale azione me li ricordo sì se ce le indica nuovamente allora con Calabro Giuseppe insieme a Calabro Giuseppe abbiamo sparato a Pietro Neri e a suo nipote a San Gregorio nell'estate 93 nell'estate 93 erano sul Vespino vicino al ponte dove c'era il bar di Domenico Enrico bene e ancora prima con Francesco invece con Francesco abbiamo sparato la serranda di Giacomo e di Giovanni Stilitano Giovanni Stilitano è il cugino di Pino Figara e la Tella benissimo anche quelle erano azioni che si inserivano in dinamiche d'indrangheta sì e voi aggivate su un mandato di altri sì di chi sul mandato della vendetta giustamente sia da parte nostra come lo giudice che odiavamo la Tella Figara e sia da parte di Calabro che voleva vendetta su quello che era accaduto al padre benissimo Calabro Giuseppe e Calabro Francesco erano già dranghetisti in tutto e per tutto assolutamente no no non sono stati mai affiliati e come potevamo classificarli diciamo come come li dobbiamo classificare quindi all'epoca che cos'era ma erano contrasti onesti riconosciuti cioè erano in quella zona di limbo sostanzialmente sì però erano affidabili anche perché avevano delle referenze importanti erano diciamo provenivano da una famiglia che aveva ci dava delle garanzie vi dava delle garanzie per i motivi che ci ha spiegato prima quindi per i rapporti di parentela sì erano queste le garanzie più importanti che davano anche perché anche noi potevamo soffrire in questa maniera avevamo un altro alleato quindi lei inizia a frequentarli inizia a parlare di determinati argomenti sì e di che cosa parlate nei primi anni di frequentazione ma nei primi mesi perché poi la carriera diciamo la nostra frequentazione dura non dura tanto e nei primi momenti della nostra frequentazione Calabro Giuseppe era diciamo gli piaceva questa vita di dranghetista era mi faceva capire mi faceva vedere anche che era molto maneggiava molto bene le armi che aveva delle armi che aveva lui personalmente e che era predisposto a compiere delle azioni se c'era il bisogno nei primi momenti infatti abbiamo programmato come ho spiegato prima di uccidere Pietro Neri però il nipote non c'entrava nulla perché se l'era cantata e ci aveva fatto in parte arrestare e lui diciamo sia da parte mia sia da parte sua c'è stato un consenso comune di entrambi e abbiamo fatto già quell'azione come abbiamo fatto già altre azioni insieme là nasce la nostra la nostra unione male quindi oltre che a Villani Consolato che Calabro Giuseppe fosse un azionista e sapesse sparare era noto all'andrangheta regina diciamo per chi lo conosceva bene sì ad alcune componenti dell'andrangheta regina per chi lo conosceva bene sì anche perché lui aveva già commesso degli omicidi quali quello del vigile marino sul dove c'era diciamo aspetto un attimo mi ricordo l'edicola alla Villa Comunale di Reggio Calabria di Reggio Calabria sì accanto alla questura uccise il vigile marino mi spiegò tutto lui me lo disse bravo che cosa le disse su un mandato di chi agì sì mi disse che praticamente uccise il vigile marino perché si era aveva fatto uno sgarro che lui era passato con non ricordo quale componente diciamo con la macchina con quale componente della famiglia Latella di là e questo aveva fatto uno sgarro perché l'aveva richiamato pesantemente aveva fatto un verbale una cosa una cosa del genere e in pratica mi disse che poi andò a casa prese quest'arma una se non ricordo male tanfoglio una pistola tanfoglio va dove i vigili erano fermi come pattuglia uccide il vigile marino e ferisce l'altro vigile questo è stato ma non era l'unico omicidio che aveva commesso Calabro Calabro aveva commesso pure qualche altro omicidio detto da lui perché Calabro mi disse che partecipò all'omicidio di Luciano Martino di due giovani che avevano forse non lo so che avevano fatto avevano fatto uno sgarbo uno sgarro a lui mi raccontò una storia del genere che lui partecipò con l'aiuto di La Tella con l'aiuto diciamo in quell'epoca che lui era insieme a La Tella partecipò a questo omicidio là ci fu la morte quindi dice lei era già abituato a determinate azioni era anche conosciuto come uno che sparava bene sì le disse mai le raccontò mai come era stato istruito da chi all'uso delle armi ma direttamente no precisamente precisamente no 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 precisamente no anche comunque lui aveva anche tante persone dove diciamo lui legava e aveva molta fiducia e dimostrava diciamo un certo legame basato su cose che io non riusciva a capire lui aveva dei legami anche perché in altre zone della città dove cercava Manforte pure su determinate cose come nella zona dove il padre Giacomo Santo aveva costruito essendo un appaltatore edilizio aveva costruito dei palazzi nella zona di Condera di Condera nella zona di Sant'Antonio precisamente Sant'Antonio il santuario sì la chiesa il santuario allora io ricordo bene scusi la zona di Reggio Campi Reggio Campi sì e sotto l'influenza criminale di quale famiglia è il santuario di Sant'Antonio dei libri dei libri sì sì assolutamente senta lei prima parlava di un legame Ficaralatella libri o ho capito male quando non ho capito mi scusi lei prima ha detto di un legame tra i Ficaralatella e Micolibri o ho capito male io no no assolutamente erano legatissimi nella guerra parteciparono insieme erano legatissimi quindi avevo capito bene sì sì assolutamente e chi le racconta di questo fatto del padre che costruisce nella zona di Sant'Antonio quindi nel locale dei libri Calabro Giuseppe anche Giacomo Santi il padre me lo racconta personalmente perché lei aveva un rapporto di confidenza anche con il padre sì 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 con il padre con la madre con i fratelli sì sì con tutta la famiglia noi avevamo una specie di San Giovanni dopo anche perché Giuseppe Calabro si era quasi fatto fidanzato con mia sorella Angela prima degli omicidi? ma qualcosa c'era stata prima ma poi doveva essere diciamo ufficiale quindi qualcosa c'era stata prima anche degli attentati ai militari ma era iniziata qualcosa una simpatia diciamo come si diceva quindi avevate un rapporto strettissimo sì è nato un sentimento tra i due no 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 ho capito questo voi quindi lei e Giuseppe Calabro avevate un rapporto strettissimo assolutamente sì vi confidavate sostanzialmente cose anche diciamo riferibili alle vostre simpatie criminali ai vostri legami alle vostre azioni lui essendo un pochettino più grandetto di me era più furbetto cioè non mi diceva tutto quello che poteva dirmi nel senso che alcune cose non me le disse mai io ho fatto qualche domanda riguardante gli attentati carabinieri per esempio io ho domandato perché dobbiamo fare anche per curiosità cioè ho aderito immediatamente e l'ho spiegato il perché ma per curiosità avevo domandato e allora Villani noi abbiamo più o meno ricostruito diciamo anche attività criminali precedenti a quelle che ci interessano sì e ora dobbiamo cercare di comprendere con attenzione sulla base di quello che lei sa come si arriva al discorso tra lei e Calabrò che le parla di questi attentati da compiere i danni di appartenenti all'arma dei carabinieri sì quando gliene parla per la prima volta in che occasione la prima volta me ne parla subito dopo diciamo tra il dicembre se non ricordo male nel settembre ottobre del 2013 mi dice nel 2013 cioè l'altro giorno nel 1993 scusi si fermi un attimo le risulta se in quel periodo Calabrò Giuseppe acquistasse armi e da chi? sì acquistava armi dai carella di palmi chi sono i carella di palmi? i carella di palmi erano diciamo il fratello Maurizio era all'epoca un affiliato della cosca d'Agostino di palmi e insomma tutti i fratelli godevano diciamo della stima di questa vicinanza con la cosca d'Agostino e allora all'inizio le armi che poi pure io andai a prendere insieme a lui diciamo li prendeva li acquistava dai carella che avevano un negozio di ricambi di olio di ricambi per macchina quello che ricordo ed era vicino al commissariato se non mi sbaglio di palmi al fianco più o meno questo mi ricordo e alcune armi non tutte le armi alcune armi ma le armi che abbiamo ucciso scusate abbiamo usato nei tre attentati sì le abbiamo presi a palmi le avete prese lì sì e come mai andavate a palmi ad acquistare queste armi non credo che a Reggio Calabria non ci siano rivenditori ma perché poi io lo lo feci diventare un pochettino più maligno nel senso che non volevo non volevamo non volevo che si sapesse che un componente dello giudice vuole reperire delle armi perché poteva sembrare pure una cosa diciamo che poteva mettere sul chi va là le altre famiglie e allora cercavamo non ci fidavamo a comprarli a prenderli a Reggio e allora cercavamo di prenderli a palmi a palmi non è che li conosceva lui direttamente i Canella come? i Canella non li conosceva lui direttamente e chi li conosceva? Vittorio Quattrone e chi era Vittorio Quattrone? Vittorio Quattrone era un affiliato diciamo poi riconosciuto all'epoca era vicino a Ila della Figara e quindi l'indicazione diciamo che vi aveva portato a Icarella era provenuta proveniva da questa da questa persona ma no a me a me non la volevano dare questa strada voglio precisare questo no lui Calabro gli disse che la usa solo per lui quindi erano suoi fornitori sì ma per lui per lui per Calabro per lui non per noi perché Vittorio Quattrone a noi ci vedeva come antagonisti no come nemici noi lo giudice parliamo senta i soldi per acquistare queste armi dove li prendeva? li prendeva i soldi o li prendeva Calabro o si faceva qualche rapina o i soldi li hanno messi qualche volta i miei zii mi hanno lo giudice Pietro e mi ricordo mi ha dato diverse volte suo zio lo giudice Pietro è il fratello di sua madre di mia madre sì di lo giudice Caterina che purtroppo entrambi hanno fatto del carcere sì di cui voglio precisare pure una cosa che lo giudice Pietro con gli attentati dei Carabinieri non c'entrava nulla ci arriviamo ci arriviamo in modo più assoluto no lo ho preciso perché è giusto lei lo sta dicendo perché invece è stato coinvolto nel processo assolutamente perché si è fatto assolutamente sì o no sì sì assolutamente sì quindi ha fatto l'accenno per questo motivo sì quando inizia l'acquisto da parte di Calabro e poi in parte anche da parte sua per conto dello giudice delle armi dai Carella allora noi iniziamo nel 93 nel 93 nel 93 93 fine 93 fine 93 lei ha detto che le armi utilizzate per gli attentati ai Carabinieri le avevate prese lì sì sì fine 93 a ridosso quindi ne deduco che l'acquisto è antecedente antecedente agli attentati ma sempre nel 93 nel 93 però poi mi faccia capire Villani scusi dottor non corra troppo se no ci perdiamo dei particolari di rilievo arrivate lei e lo giudice ad acquistare queste armi dai Carella prima o dopo aver iniziato a parlare degli attentati da consumare ai danni dei Carabinieri dopo dopo perché lei ha detto abbiamo iniziato a parlarne se non ricordo male il se non ricordo male riferito a me nel settembre 93 sì settembre-ottobre non ricordo male sono passato un sacco di tempo quando Calabrole parla per la prima volta di questi attentati da consumare le dice chiaramente i Carabinieri questo non lo ricordo esattamente se mi dice però mi ricordo che che in più di un'occasione Calabro quando si parlava di questi di questi diciamo di questa guardia che si dovevano fare mi parlò dei Carabinieri dei Carabinieri sì dopo quanto se non lo fece in quell'occasione le disse dobbiamo comprare le armi beh dopo 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 qualche mese in pratica mi perdoni poi un altro dato tutte le armi che voi avevate avevano un'unica provenienza o Calabro aveva già altre armi perché lei ha parlato di una sorta di arsenale ora forse il termine non è no 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 il termine è giusto perché ora vi spiego tutte le armi che erano nostre ce lo spieghi ecco allora non avevamo allora dire lui Calabro Giuseppe non aveva solo questo canale di acquisto delle armi poi il canale per acquistare armi più pesanti lo trovammo grazie sempre a Calabro lo trovo tramite il cugino Filippone figlio di Rocco Filippone lo trovammo a Melicucco dove io andai personalmente a ritirare un Kalashnikov e altre armi che ci ha fatto reperire ci ha trovato il figlio di diciamo di Rocco Filippone come si chiama questo e il nome in questo momento non lo ricordo esattamente mi ricordo che se non è più grande non mi ricordo esattamente quindi il figlio di Rocco Filippone lei dice costituiva un ulteriore canale di approvvigionamento di armi a favore di Calabro Giuseppe e di Villani Consolato e il figlio di Filippone queste armi dove le prendeva? le deteneva lui? guardi io quando sono andato una volta nella villa di Rocco Filippone a Melicucco Calabro mi disse li vedi questi alberi? di mandarini di aranci che sono belli pieni io gli ho detto sì qua sono nascoste tutte le armi tutte le armi di chi? tutte le armi di chi? le armi di suo zio di Filippone le armi che erano in disponibilità di Filippone quindi venivano venivano sotterrate praticamente dove c'erano questi questi alberi sì ma non sotto tra i rami perché erano alberi mandarinari clementini erano alberi quelli fitti ho capito quando lei va a casa di Filippone e quindi quando Calabro le dice questa cosa io vado a casa di Filippone dopo se non ricordo male dopo che ci sono stati diciamo dopo l'omicidio dei carabinieri dopo l'omicidio intende quindi dopo l'episodio di gennaio perché gli episodi sono tre sì io non ho capito una cosa però mi scusi quando vado per le armi o quando vado alla villa facciamo chiarezza allora voi iniziate ad approvvigionarvi di armi lei ha detto dopo aver parlato degli attentati da consumare i danni dei carabinieri nel settembre 1993 giusto? sì e comprate queste armi dai carella sì però avete anche altre disponibilità sì tra le ulteriori disponibilità e canali di approvvigionamento lei ci indica il figlio di Rocco Filippone sì è così? sì sì esattamente benissimo quindi tutto antecedente agli attentati carabinieri sì sì poi lei riferisce di essere andato a casa di Rocco Filippone sì e in che quell'occasione calabrò Giuseppe le mostra degli alberi sì e le dice tra gli alberi ci sono le armi di mio zio sì giusto quando andate? a casa di Rocco Filippone questo episodio avviene se non ricordo male perché non è passato tanto tempo avviene dopo gli omicidi dei carabinieri dopo gli omicidi dei carabinieri sì dopo il primo episodio dopo tutti e tre gli episodi era la domanda che lui fa no dopo il secondo episodio che avviene l'omicidio quindi dopo l'omicidio dopo il duplice omicidio quello di gennaio sì sì bene si fermi un attimo perché poi lo riprendiamo questo discorso ora vorrei che lei diciamo non distogliesse la sua attenzione diciamo dalle fasi preparatorie al primo attentato sì quindi reperite le armi è così? sì mi pare di aver capito diciamo che il soggetto principale in tutto questo non è lei ma è Calabro Giuseppe sì sì che cosa le racconta nei mesi antecedenti al primo episodio del primo e due dicembre del 93 ma racconta se ero disponibile a partecipare a un'azione contro i carabinieri e in che termini si esprime ci faccia capire meglio dobbiamo uccidere dei carabinieri dobbiamo uccidere dei carabinieri sì d'accordo vieni con me le dice altro? le fornisce altri particolari? no mi dice che dobbiamo fare stazione dobbiamo e di non parlare con nessuno le dice dove devono essere colpiti i carabinieri? le indica un luogo preciso? no perché praticamente all'inizio no perché infatti 3 dicembre diciamo scegli una zona 1 e 2 dicembre non 3 dicembre ah scusi 1 e 2 dicembre scegli una zona che lui era sicuro che da lì transitavano transitavano qualche gazzella dei carabinieri siamo nell'episodio di Saracinello sì il primo sì ce lo descrive? sì allora praticamente viene utilizzata l'autovettura che era intestata a mia madre se non ricordo male o a mio padre sì perché? che autovettura era? una regata fiat regata sì una fiat regata Calabro viene e mi dice senti non possiamo rivolgerci agli zingari per trovare una macchina perché poi questi parlano quindi dobbiamo avere una macchina pulita la mia è accidentata e non la possiamo utilizzare però possiamo fare una cosa se tu mi dai le chiavi della macchina noi che facciamo? gli mettiamo delle targhe rubate e facciamo questo discorso con una macchina pulita dopo che abbiamo fatto questo discorso tanto là la zona all'epoca non era tanto non era sorvegliata assolutamente togliamo le targhe prendiamo la macchina gli montiamo le sue targhe la portiamo nel garage gli montiamo le sue targhe di nuovo e la riportiamo a posto non se ne accorge nessuno le targhe le abbiamo rubate a San Gregorio a fianco del bar di Mimmo di Domenico Enrico sì e partiamo quindi predisponete l'autovettura con le targhe sì rubate sì e partiamo lui faceva un giro di ricognizione verso partite armati in che modo? con una mitraglietta M12 33 colpi caricati in tutti e due i caricatori che avevate provato nei giorni precedenti? sì sì avevamo provato a Cuzza cos'è Cuzza? Cuzza era il nostro poligono di tiro abusivo abusivo ritengo abusivo assolutamente abusivo dove provavamo tutte le armi che avevamo diciamo nelle disponibilità e vi eravate esercitati lei e Calabro? sì e basta? una volta c'era pure mio zio lo giudice Pietro che si esercitava con voi? sì come mai? ma per provare non mi ricordo avevamo preso delle armi che lui aveva ci aveva dato i soldi mi sembra per quelle armi e quindi vi eravate esercitati direttamente con le M12 che avevate il giorno del primo agguato giusto? sì e poi con quali altre armi? con un fucile che fucile? calibro 12 Beretta sì con canne mozzate nell'occasione diciamo della prova di queste armi chi sparava con l'uno e chi sparava con l'altro? ma Calabro sparava con le M12 e io sparavo con il fucile per vedere sì perché? perché io si doveva vedere mi diceva Calabro l'apertura della rosa dei pallettoni che traiettoria avesse perché i fucili a canne mozze sì hanno una traiettoria di perforazione si aprono molto subito si aprono troppo si aprono subito e quindi a distanza perdono potenza ho capito quindi era una prova non diciamo sull'arma così in astratto ma era una era una prova già orientata a quello che doveva essere l'agguato mi pare di capire sì quindi qualche giorno prima era un preparativo sì sì quindi fatta la prova allestite la macchina sì e diciamo lei e Calabro ognuno con le armi di competenza iniziate la ricerca sì e ci spieghi bene perché lei parla di ricerca sì iniziamo la ricerca perché praticamente lui mi ha detto facciamo lui era lato passeggeri io ero lato guida della macchina e praticamente mi disse percorriamo la strada che va la strada alle 106 fino a Pellaro perché di là passano sempre le gazzelle i carabinieri era una strada era una strada molto trafficata è una strada un po' particolare quindi era ben controllata e allora lui sapeva che in tarda serata passava una battuglia sicuramente avevamo incrociavamo sicuramente una gazzella dei carabinieri sì anche perché avevano fatto i sottopassaggi già avevano quindi già abbassato la strada per il fatto dell'aeroporto è stata una strada quindi la strada era deserta e allora lui diceva guarda se facciamo questo discorso che spariamo questi carabinieri sotto pure una galleria o in questa dove la strada è stata ribassata è ancora meglio non ci vede non ci sente nessuno diciamo quindi il luogo era stato scelto anche per queste caratteristiche sì sì non c'erano telecamere non c'era niente eravamo coperti là anche perché più avanti avevamo gli svincoli ma lui voleva scendere poi dalla fiumara in pratica c'erano tante vie di fuga che potevamo prendere passare inosservati quello era il vostro territorio all'epoca sì avevamo diciamo eravamo risaliti in quel territorio perché quello era un territorio appartenente alla della Figara ma noi eravamo riusciti a a fare vostro territorio intendo non vuol dire che eravate voi a comandare su quel territorio cioè voi vivevate lì sì noi io sono nato lì quindi sapevo tutte le vie le viuzze e tutto sì sì lei dove viveva all'epoca proprio lì io vivevo a ma a linea d'aria a 100 metri a 100 metri dal luogo dell'agguato ma 100-200 metri e Calabro? ma Calabro è più vicino è più vicino e Calabro è più vicino più vicino che vuol dire? più vicino al luogo dell'agguato? sì ancora più vicino Calabro mi sembra che comunque la distanza è là perché poi quindi voi vivevate lì in poche parole cioè quella era la vostra zona diciamo di elezione la zona che forse conoscevate meglio sì sì quindi uscite in macchina con la regata armati due armi a bordo sì l'M12 e il calibro 12 sì e iniziate la ricerca sì come si svolge questa ricerca? ma la ricerca mi ricordo così che abbiamo fatto qualche giro perché non si intravedevano gazzelle l'ultima volta abbiamo girato al semaforo a Pellaro qualche giro che vuol dire? arrivavate dove? perché uscivamo a Saracinello e tornavamo indietro ok una sorta di circuito avete fatto? in pratica e arrivavamo al semaforo a Pellaro giravamo tornavamo a Saracinello uscivamo insomma facevamo questi giri alla ricerca e praticamente dopo qualche quanto è durato questo giro Villani? ah? il giro quanto è durato? quanto avete girato? ma il giro non riesco a quantificare esattamente quanti giri avete fatto? ma ne abbiamo fatto quanti chilometri? ma un po' di chilometri li abbiamo fatti perché tenendo conto che Saracinello e Pellaro sono già un 5-6 chilometri mi sembra quindi due o tre volte abbiamo girato abbiamo fatto un po' di chilometri si erano fatti pure le 11 e qualcosa mi sembra ah perché lei prima diceva non passavano gazzelle quindi ci fa capire era più tardi avete aspettato un attimo no? sì sì ecco quindi ad un certo punto ad un certo punto vediamo intravediamo facciamo questo giro intravediamo una gazzella davanti venendo verso Saracinello da Pellaro verso Saracinello sì e allora arrivati allora voglio precisare una cosa che Calabro non doveva uccidere e non doveva uccidere i carabinieri con l'M12 no li doveva sparare con il fucile perché quando abbiamo fatto le prove delle armi lui mi diceva il fucile è più micidiale è più pericoloso cinque colpi a pallettoni sono 45 colpi di pistola quindi spariamoli dice io li sparo meglio con il fucile va bene l'M12 lo lasciamo per protezione va bene siamo arrivati all'altezza della prima galleria e allora dice sorpassali o quasi o nell'ultima galleria comunque in che tratto dove la strada è stata ribassata e allora quando io mi sono affiancato Calabro aveva alzato il fucile con il finestrino aperto e l'aveva scorto e da lì c'è stato un attimo di esitazione da parte di Calabro tanto che ha salvato la vita i militari perché i militari si sono accorti che c'è stato qualcosa e hanno rallentato di colpo e noi siamo passati avanti passando avanti i militari vedendo che c'è qualcosa che non andava iniziano una specie di inseguimento per fermarci allora praticamente cosa succede che prima del supermercato che all'epoca c'era un supermercato non lo so ora prima c'era una rientranza allora mi disse Calabro entra là dentro così gli facciamo capire che ti stai fermando e riparti praticamente entro e i carabinieri entrano come se stavo per fermarmi riparto però i carabinieri ce li avevamo dietro arrivati quasi all'altezza del ponte dove c'è l'ex gioelleria di Ficara là su per giù Calabro si sporge dal finestrino perché i carabinieri ce li avevamo attaccati dietro si sporge dal finestrino e inizia a sparare con l'M12 quindi aveva cambiato arma sì è normale non poteva sparare con il fucile non avrebbe fatto nulla con il fucile inizia a sparare con l'M12 ma i carabinieri che sono rimasti innesi grazie a Dio ci rispondono perché io sentivo qualche colpo che arrivava dentro la macchina di lì usciamo esco a Saracinello vado verso Saracinello diciamo verso Saracinello verso Croce Valaniti dove c'è che si dividono le due strade sempre Saracinello dove si dividono le due strade c'è la strada che va nella Fiumara all'epoca la Fiumara era diciamo si conosceva forse di più noi la facevamo sempre e praticamente abbandoniamo la macchina e io scendo e me ne vado e la macchina viene bruciata anche perché Carabro aveva preso pure una tannica aveva preparato tutto sì e praticamente arriva a casa e la macchina praticamente lui la brucia si prende le armi scende dalla Fiumara e casa sua passando il ponte della 106 c'è la strada dove abita Greco quello che ha la colonnina della benzina sotto c'è la strada che portava a casa sua a casa di Carabro lui percorre con le armi la stradina a piede a quell'ora non c'era più nessuno intanto si sentono già sirene si sentono già che arrivano rinforzi e va a finire sta situazione in questa maniera solo che aveva fatto un errore che non aveva scassato il blocco a sterzo per far capire che la macchina era stata rubata perché ovviamente voi l'avevate utilizzata con le chiavi perché lui aveva detto no dobbiamo rientrare io pensavo che l'avrebbe fatto io andavo anche perché dovevo arrivare più presto di lui a casa anche perché mancava una macchina e la stavamo perdendo sta macchina la macchina era mia la responsabilità sarebbe stata mia e se venivo scoperto fatto sta che si rientra a casa la mattina mio padre si alza mia madre si affaccia dal balcone dice la macchina è scomparsa dove è la macchina che è successa è qua e là ma come hanno rubato la macchina intanto ancora i carabinieri non erano arrivati a casa nostra mio padre cosa fa nel frattempo convinto che la macchina ce l'avevano rubato va da consolato Giulione un defunto che era un affiliato al locale di Ravagnese all'epoca e gli chiede la cortesia se possono andare dagli zingari a vedere sta macchina chi l'aveva rubato e perde il tempo per andare a fare anche la denuncia perché a Reggio si sapeva come funzionava si andava dagli zingari se rubavano una macchina si andava dagli zingari e a secondo le conoscenze a secondo chi si presentava gli zingari tornavano la macchina ma la macchina non ce l'avevano gli zingari ma mio padre non lo credeva comunque perse questo tempo mio padre poi se ne andò in caserma a fare la denuncia a casa nostra arrivarono i carabinieri perché la macchina era stata subito ritrovata quindi lei sta dicendo Villani che suo padre e sua madre del disegno criminoso da attuare utilizzando la regata non sapevano nulla no perché Calabro mi disse assolutamente di non parlare con nessuno in modo più assoluto di non dire niente a nessuno anche perché non penso che mi avrebbero lasciato andare diciamo sicuramente mio padre non mi avrebbe lasciato andare sicuramente mi faccia capire un'altra cosa lei ha diciamo premesso al suo esame diciamo nella fase iniziale del suo esame che lei nasce e cresce in una famiglia di indrangheta sì ora lei sta dicendo io non dissi nulla perché Calabro mi aveva detto di non parlare neanche in relazione voglio dire all'autovettura e quindi alla Fiat regata ma voglio dire all'interno di una famiglia di indrangheta quello non era un qualcosa che si poteva dire no c'era un problema a casa nostra il problema era mio padre che problema perché mio padre per esempio non ne voleva sapere di questa famiglia di questo cognome di queste dinamiche mia madre invece era la criminale mia madre è nata lo giudice purtroppo con quel sangue di criminale ha fatto 13 anni di carcere penso un po' lei lo sa la storia ha fatto 13 anni di carcere quindi quindi lei sta dicendo astrattamente io avrei potuto parlare con mia madre sì però in casa avevamo un problema che era mio padre sì assolutamente mio padre era un grosso problema anche perché noi non ci fidavamo nel senso che non ci fidavamo perché noi ne io ne Calabro anche perché lui non vedeva di buon occhio Calabro suo padre sì perché che cosa aveva percepito perché aveva percepito che era come me un poco di buono e allora tutti e due insieme fanno solamente danni non solo questo sta crescendo come i suoi zii questo sarei io Villani consolato sto crescendo con la mentalità dei lo giudice e già mio padre questo non non gli andava bene poi legandomi con Calabro e vedendo che Calabro sì aveva qualche anno più di me ma su certi aspetti era più piccolo di me voglio dire più facilone più azionista dice con questi che stanno combinando quindi Calabro fa l'errore non rompe il blocco di accensione lei ci stava dicendo sì a questo mi risulta mi ha detto che non l'ha rotto poi no i suoi si accorgono che manca la regata sì suo padre ne denuncia il furto sì ma lo denuncia più tardi quali sono diciamo i passaggi immediatamente successivi al primo agguato arrivano i carabinieri a casa nostra fanno un macello si portano via mia madre mio padre era in una caserma e mia madre era in un'altra caserma poi fanno una perquisizione gigantesca perché arrivano a casa vostra è perché la macchina era intestata se non ricordo male a mia madre o mio padre a mia madre non ricordo esattamente se era a mia madre o a mio padre la macchina intestata e quindi si portano via pure mia madre sì in caserma ovviamente suo padre e sua madre poi torneranno a casa sì lei avrà modo di incontrarli sì che tipo di discorso fate ma mio padre era sospettoso dottore c'era qualcosa che non gli quadrava cercava di farmi l'interrogatorio lui il terzo grado ma possibile non è possibile un padre mia madre ma mia madre aveva un altro carattere anche se aveva capito qualcosa beh gli poteva stare pure bene nel senso che sta crescendo voglio dire forse cioè nel senso che aveva quella mentalità mia madre aveva quella mentalità sì ma tutto quello che lei ci sta raccontando oggi è frutto dei silenzi di sua madre e di suo padre cioè di sguardi di gesti no no o parlate no no mio padre mi domandò un sacco di volte cercava la 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 cercava qualcosa per poter per poter fermare questa situazione che per lui stava diventando pericolosa e la macchia dici ma possibile ma la macchia è stata rubata ci hanno voluto fare una tragedia mia madre così diceva e mia madre gli diceva con senso dice sì sì una tragedia sicuramente ci hanno fatto qualcuno ci vuole male sicuramente saranno questi il ponte riferito ai l'atella ficara riferito ai l'atella ficara perché dovete sapere che e noi lo sapevamo perché era uscito pure pubblicamente che vincenzo ficara o giacomo l'atella avevano soprattutto giacomo l'atella aveva dei legami particolari con pellegrino che era praticamente all'epoca guidava la dia di reggio calabria e allora giacomo l'atella cioè stiamo parlando del generale pellegrini sì ma in sostanza ci fece a mio padre poi lo lo arrestano lo ha fatto arrestare diciamo lo hanno arrestato i carabinieri perché c'è stato un ritrovamento di armi che lui disconosceva io so la situazione di quelle armi che sono state ritrovate sotto il ponte ma è stato giacomo l'atella che ha indirizzato il dottore pellegrino dice vai là che di là stanno partendo le situazioni invece mio padre o mia madre soprattutto mio padre dice qualcuno ci sta facendo qualche tragedia qualcuno ci sta facendo qualche carretta ci sta facendo qualcosa senta Villani prima lei ha fatto riferimento quindi siamo nella fase immediatamente successiva al primo episodio sì lei ha fatto riferimento a un rapporto molto stretto con Calabro no? sì eravate molto in confidenza dopo il primo episodio quando lei è Calabro tornate a parlarvi ma di parlare abbiamo parlato quasi subito e lui era molto scontento di come era andata la situazione sì però dallo stesso punto da un altro punto di vista dice no abbiamo fallito dobbiamo dobbiamo fare un'azione dobbiamo uccidere dobbiamo fare un'azione omicidiale dobbiamo perché poi eravamo passati pure in cattiva luce nel senso che c'era stato un attentato mancato quindi in cattiva luce agli occhi di chi? in cattiva luce agli occhi di chi disse a Calabro che dovevamo fare queste cose? e chi disse a Calabro che dovete fare queste cose? questo Calabro non me lo disse mai senta un attimo poco fa lei faceva riferimento a un viaggio a Melicucco sì quello delle armi tra gli alberi sì le ho chiesto di precisarmi se riesce a farlo quando avviene questo viaggio ma questo lei dice a casa di Filippone sì nella villa scusa mi pare che il test abbia più volte detto che successivamente al secondo e io torno avvocato tutte le volte che ritengo perché se devo fare contestazioni quindi io la ringrazio di questa precisazione lo so pure io quello che ha detto il test comunque il test ha già riferito due volte sì va beh se è necessario anche 50 deve riferire questo lo stabilisce sì lo stabilisco io va bene andiamo avanti pubblico ministero dobbiamo cercare di avere degli elementi certi ecco appunto sì io dobbiamo pensare anche che sono passate 24 anni allora le chiedo le chiedo Villani sì lei è sicuro di essere andato a casa di Filippone dopo il secondo episodio non posso essere sicuro perché non ricordo attentamente se è stato prima o è stato dopo dottore vi dico la verità perché non ricordo esattamente se è stato prima o è stato dopo e allora nel verbale del 4 giugno del 2013 sì lei dice di essere andato a casa di Filippone dopo il primo episodio sì sì e lo confermo confermo perché evidentemente la mia memoria mi ha fatto ricordare che sono andato oggi in questo momento dopo tutto questo tempo passato anche io alcune cose se non sono così a volte devo fare mente locale e perché dopo il primo episodio voi andate a casa di Filippone Rocco allora il primo episodio mi ricordo una volta siamo andati io e Giuseppe Calabro da soli da Rocco Filippone poi siamo andati io Giuseppe Calabro e mio padre ecco quindi lei è andato più volte a casa di Rocco Filippone poi Rocco Filippone è venuto pure a casa nostra con suo compare Mercurio e quindi è un terzo incontro bene allora andiamo per ordine il primo incontro dopo aver consumato l'agguato dei primi dicembre coinvolge lei e Calabro sì e io perché andate a casa di Filippone ah questo non lo so come si arriva a quel viaggio a casa di Filippone questo dice ti presento mio zio andiamo ti presento mio zio dice Calabro sì lei fino a quella data e lo zio di Calabro non l'aveva mai conosciuto l'avevo solo sentito nominare nei termini che ci ha detto ora e in altri termini nei termini che ho detto fino a ora come uomo di Indranche l'avevo sentito nominare quindi anche prima degli episodi ai danni dei carabinieri l'era stato detto che Filippone era un uomo di Indranche e da chi si vantavano i Calabro Giuseppe Calabro si vantava che era suo zio e che cosa diceva in che termine parlava diceva che suo zio lui lo descriveva come mamma santissima a tal punto che poteva interagire con i piromalle con i pesce con il bellocco lo rispettano tutti e interviene se ci sono diciamo contrapposizioni tra di loro un uomo importantissimo nella diciamo come spessore criminale dell'Andrangheta e ma in che occasione le parla di suo zio mi parla delle occasioni quando suo padre per esempio ha avuto diversi problemi mi racconta quando suo padre ha dovuto fare dei lavori in zone della città dove gli hanno chiesto la mazzetta mi parla che è dovuto ricorrere al suo cognato a mandare l'imbasciata a non spolpare vivo Giacomo Santo che è il cognato di Rocco Filippone quindi mi pare di capire che quando lei si ritrova Rocco Filippone nella copiata di Santista per lei non è un nome nuovo no 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 assolutamente non è un nome nuovo però sono rimasto vi dico la verità perché è rimasto è rimasto è rimasto sorpreso lei purtroppo ha questo questo vizio di troncare è rimasto sorpreso sì perché perché era si era reso una persona diciamo era stato un nome invisibile fino all'epoca era troppo protetto da altri intranchetisti per sapere per venire fuori il suo nome in determinate cose così importanti perché dare un grado di santista o dare un grado di evangelista per uno dranchetista è di vitale importanza e questo l'ho capito che veniva fuori il suo nome pensavo che la sua carriera fosse andata un pochettino a scemare per il fatto che il suo nipote era collaboratore mi perdone se questo fosse avvenuto in relazione al picciotto ma il nome di filippone viene fuori in relazione a un grado altissimo e al grado proprio che come dice lei apre la strada alle relazioni con altri mondi sì ce l'ha spiegato lei che cosa significava essere diventato santista quindi perché in relazione a quel grado così alto l'aveva comunque sorpresa il riferimento a filippone perché non pensavo che con un nipote collaboratore poi potesse continuare quella carriera che avevo che io ricordavo che chi era Rocco Filippone e spiegherò pure dopo nelle altre fasi dei nostri incontri perché riesce a essere più preciso in relazione al momento in cui per la prima volta Calabrole parla di suo zio e del suo ruolo criminale gliene parlò all'epoca diciamo della tentata rapina con Francesco gliene parlò all'epoca del tentato omicidio di Neri quando gliene parlò subito dopo che ci siamo diciamo uniti in maniera ristretta se non ricordo male mi parlò così dopo il fatto di Pietro Neri se non ricordo male lei parla di suo zio sì lei ha utilizzato il termine mamma santissima sì è un termine che lei diciamo utilizza oggi per farci capire o questo fu il termine utilizzato da Calabro no questo era il termine che Calabro a volte lo descriveva come mamma santissima perché dove interveniva lui si fermavano tutti quanti le chiedevo prima perché dopo la prima azione di fuoco andate da Filippone lei dice mi portò Calabro sì che cosa avvenne nel corso di quell'incontro niente mi presentò mi ricordo che entrammo in questa villa diciamo che era situata all'epoca c'era sullo stradone che faceva Rosarno per andare sulla Ionica sì noi prendemmo quella strada quindi la strada dei due mari la strada dei due mari sì arrivammo e c'era lo svincolo per Meligucco a Noia quelle zone là a sinistra e proprio quasi vicino c'era una vecchia area di benzina che era chiusa dove in quell'area di benzina chiusa noi abbiamo provato il Kalashnikov che ci è stato dato dal figlio di Rocco Santo Filippone dopo praticamente noi siamo abbiamo fatto qualche curva siamo saliti verso Meligucco e non riesco a quantificare sulla sinistra c'era una villa sulla sinistra sì ci siamo fermati mi ricordo che c'era pure un cancello dove si entrava e ricordo che diciamo bene o male era una casa nuova fatta nel senso che mi sembrava una villa fatta da poco tempo quindi costruita da poco sì sì di quello che ho visto sì e lì che cosa è avvenuto? è lì è avvenuto che mi presentò dice è mio zio allora al suo zio gli disse questo è l'amico mio che ti ho parlato che ti parlo consolato questa è stata diciamo una presentazione mi perdoni in sua presenza Calabro Giuseppe disse allo zio questo è il mio amico di cui ti ho parlato sì aggiungendo altro no poi io sono rimasto più indietro e Calabro e il suo zio erano più vicini e io ricordo che Calabro gli disse qualche parola che io non compresi esattamente da dove mi trovavo e il suo zio mi ricordo che mi guardò e fece tipo una risatina tipo ah lui è tipo una cosa del genere questo è quello che lei percepisce sì in quell'occasione sì lei poi parla di altri incontri con Calabro con Filippone mi scusi sì e parla anche di un incontro a cui è presente suo padre Villani Giuseppe sì quando avviene questo secondo incontro questo questo secondo incontro non mi ricordo se avviene dopo l'omicidio io ricordo che a casa mia diciamo c'era un'area bruttissima con mio padre mio padre ha chiamato pure Giacomo Santo Calabro il padre di Calabro gli disse basta che questi non lo so quello che stanno combinando devono stare distanti devono stare lontani come pure mio padre sapeva che quello che diceva Rocco Filippone era legge nel senso che sapeva che Rocco Filippone diciamo era una persona era suo zio e che lui sentiva se gli diceva una cosa e allora dalla disperazione ma mi perdoni suo padre sapeva chi fosse Rocco Filippone sulla base di cosa di quello che gli aveva detto lei sì anche Calabro certe volte gli parlava il mio zio lo vantava e allora dice io ho chiamato a suo padre e con suo padre non si ferma e allora che devo fare questo chissà quello che stanno combinando vabbè quindi questo è un incontro diciamo successivo rispetto al primo non di qualche giorno mi pare di capire di circa un mese no dopo dopo sì e allora fermiamoci un attimo perché lei dice nel corso del primo incontro io rimango un passo indietro sì e Calabro parla a breve distanza con lo zio sì vicino vicino tant'è vero che a un certo punto lo zio mi fa un sorrisetto sì Villani la domanda che le faccio è questa lei è in grado di dirci sulla base degli incontri che lei ha avuto con Calabro sulla base dei discorsi che lei ha fatto con Calabro sulla base di quello che lei ha visto percepito e sentito negli incontri anche con Filippone se Filippone Rocco fosse al corrente del vostro ruolo in relazione agli attentati ai carabinieri io penso di sì lei pensa di sì sulla base di che cosa sulla base perché Calabro mi disse che al suo zio gliel'aveva detto che ne aveva parlato con lo zio dai e quando glielo disse Calabro esattamente questo non lo ricordo quando glielo disse però mi disse che il suo zio no no quando Calabro lo disse a lei che aveva parlato con lo zio e subito dopo che sono iniziati gli attentati quindi subito dopo il primo attentato subito dopo il primo il secondo quando non ricordo esattamente non voglio sbagliare però mi ricordo quello che mi disse Calabro quindi Calabro le rivelò che suo zio sapeva sì sì le rivelò che cosa sapeva e che ruolo avesse no assolutamente no mi disse solamente che mio zio lo sa che lo zio lo sa e basta poi non parlò di niente anche perché ho visto che diciamo che Calabro era pure impaurito quando mi diceva qualcosa sì sì era molto spaventato senta Villani lei il 4 giugno del 2013 sì ascoltato da me dice che il Calabro parlò in sua presenza in presenza di Villani consolato allo zio dell'attentato ai danni dei carabinieri sì e che il Filippone udito questo si era molto compiaciuto di quest'azione sì allora come l'ho detto prima io sono rimasto un passo indietro allora Calabro e Rocco Filippone sono rimasti più avanti Calabro sicuramente gli ha detto a Rocco Filippone quello che stava venendo perché il Rocco Filippone sentendo le cose che stava dicendo suo nipote mi guardò e fece un gesto tipo di compiacimento tipo mi fece capire tipo un sì sì quel gesto di cui ci parlava prima sì quindi lei percepisce il discorso che avviene quel giorno tra Calabro Giuseppe e lo zio Filippone Rocco ne percepisce solo un pezzo percepisce solo qualche parola lo percepisco in grande che Calabro gli sta indicando il suo compagno delle cose che stanno accadendo quindi che sta indicando lei come colui il quale lo sta affiancando in quelle azioni sì sì ora visto che lei conosceva molto bene Calabro ce l'ha spiegato più volte sì ma Calabro e glielo ho chiesto già in varie occasioni non era un uomo di indrangheta assolutamente no e quindi non essendo un uomo di indrangheta per quello che risultava lei era in grado di organizzare un'azione del genere perché lei ci ha spiegato che toccare i carabinieri i magistrati i poliziotti significava scomparire scomparire fisicamente no lui se non era per la protezione dello zio non lo poteva fare assolutamente veniva calato nell'acido come la stessa cosa doveva avvenire a me se era stato così guardi c'è un particolare dottore non so se lei si ricorda Vincenzo Figara dei Figara Latella Figara Latella disse che deve prendere a quelli che hanno fatto gli attentati carabinieri e li deve impiccare in un palo a piazza Fontana disse Vincenzo Figara Vincenzo Figara non è che stiamo parlando dell'ultimo arrivato diciamo e a chi lo disse lo diceva ai suoi affiliati e qualche affiliato suo ce lo fece sapere perché l'attentato era avvenuto nel suo locale di indrangheta due attentati due attentati sì e quindi ma questo non si verificò anzi le dirò che con Vincenzo Figara c'era un rispetto particolare addirittura dopo anche perché Vincenzo Figara era latitante e commetteva i suoi i suoi reati da latitante quindi se avrebbe voluto farmi un qualcosa l'avrebbe fatto e Vincenzo Figara non è che era di poche parole Vincenzo Figara e invece dice lei non solo non consumò nulla i vostri danni ma cambiò anche il rapporto a vostro favore assolutamente sì e questo voglio dire sulla base di che cosa ma sulla base che quando morì suo padre ci fu un'occasione che morì il gioellere suo padre Giovanni Figara sì e io andai al funerale e Vincenzo Figara venne portato io ho visto un gruppo di persone ferme fuori c'era Fortunato Martino c'erano altri affiliati della Cosca no? sì e mi rivolgei a uno di loro gli dissi ma Vincenzo l'hanno portato lo portano dice sta per arrivare e effettivamente da lì a mezz'oretta è arrivato è entrato dentro c'era il padre che era morto è stato un po' dentro con i familiari poi a un certo punto sono entrate le persone per salutarli allora siccome il suo posto lui ormai era arrestato il suo posto l'aveva preso suo fratello Pino Figara però noi eravamo cresciuti allora cosa accadde? io entrai fece le condoglianze alla moglie a sua madre e poi mi avvicinai da lui gli diede le condoglianze mi fece così sulla spalla mi diede due colpi sulla spalla e mi disse ti raccomando mio fratello questo non lo diventivo mai nel linguaggio d'Indrangheta tutto questo che cosa significava? significava di essere amico di suo fratello allora io mi domando e dico ma se tu eri latitante mi dovevi appendere insieme a Calabro in un palo perché non l'hai fatto? ma nel linguaggio d'Indrangheta questo significa che lei era diventato un uomo talmente importante da meritare l'affidamento addirittura di un Ficara sì nel senso che Vincenzo Ficara si preoccupava della nostra imprevedibilità nel senso che già c'erano stati dei malumori tra noi e i Ficara la tela nelle vicende processuali c'è scritto quelli anche attinenti sono confluiti nel processo dei carabinieri a diversi attentati che noi facevamo la guerra contro i Ficara la tela e l'ho spiegato già il perché quindi Vincenzo Ficara poi sapeva che alcuni danneggiamenti ai suoi uomini gliel'avevamo fatti noi però voleva mettere una pietra sopra ma non solo sapeva questo ma sapeva ed ero convinto che gli attentati ai carabinieri per il fatto della macchina che è stata ritrovata l'avevamo fatti noi quindi aveva questa certezza ce l'aveva ma io penso di sì anche perché poi cambiò da così a così cambiò da così a così a vostro favore lei ha detto sì e infatti con Pino Ficara io se Pino Ficara quando ci vedevamo ma anche mio cugino stesso se c'era una cosa ravagnese mi diceva parla con Pino parla tu con Pino Ficara perché con lui magari non parlava come avevamo buonissimi rapporti alla fine dopo scusi pubblico ministero sì giusto per fare una sì una previsione anche per diciamo consentire i giudici popolari sì facciamo una pausa se vuole facciamola adesso il signor Villani magari solo solo qualche domanda e poi possiamo sospendere ecco concludo e poi sì grazie quanto durò l'incontro il primo incontro a casa di Filippone a cui eravate presenti lei e Calabro no non durò tanto mi ricordo che non durò tanto quanto durò quanto durò siamo stati non non ci siamo fermati là a mangiare per esempio a stare mezza giornata durò un po' che poi siamo ritornati siamo rientrati ma questo è il primo incontro il primo incontro sì come si conclude l'incontro tra lei Calabro e Filippone quel giorno cioè Filippone vi saluta sì sì vi dice qualcosa ma era compiaciuto che mi aveva conosciuto e lei questo come lo fa a dire come come lo fa a dire lo vedevo l'espressione del viso no anche perché vi dico una cosa con Rocco Filippone non è che abbiamo avuto uno scambio di di discorso di parole poco e niente perché era un uomo che io come l'ho conosciuto era un uomo di pochissime parole parlava poco e niente va beh lei l'aveva conosciuto solo in quel momento cioè non è che l'avesse incontrato in altre occasioni no no ma pure dopo quindi lei la valutazione che fa oggi la base anche sugli incontri successivi sì sì l'ho visto parlare solo quando gli ha dato una spiegazione a mio padre oh ma sulla base di quello che lei ha percepito quel giorno sulla base di quello che le ha detto Calabro Giuseppe prima e dopo quegli episodi Villani noi dobbiamo capire una cosa chi aveva deliberato quelle azioni delittuose che lei Calabro avete eseguito perché lei ci dice un attimo fa non solo non ci uccisero ma il nostro peso criminale sostanzialmente aumentò dottore io questo lo volevo sapere pure io perché io avevo 17 anni non è che ero un uomo non avevo ancora diciamo delle riconoscenze dei meriti non è che mi poteva anche Calabro stesso non mi diceva delle cose mi diceva il finale mi diceva le cose il finale alcune cose mi le diceva in una maniera che anche lui stesso era spaventato perché si spaventava pure lui non mi ha mai detto che che o se Rocco Filippone era consenziente non me l'ha mai detto no io ho visto Rocco Filippone una persona di drangheda che era compiaciuto quando vi ho raccontato l'incontro sì senta nel corso di quell'incontro per quello che lei ha percepito venne fuori un riferimento al fatto che comunque poi l'omicidio non era stato consumato ma no questo non me lo ricordo in questo momento no lei prima ci ha detto che però Calabrò era arrabbiato sì sì era arrabbiato perché faceva cattiva figura abbiamo fatto cattiva figura ecco soprattutto lui che si era preso l'impegno benissimo e allora lui faceva cattiva figura lui si era preso l'impegno quindi io vorrei capire e per questo insisto dopo quanto tempo rispetto al fallimento del primo episodio voi andate a casa di Filippone ma dopo quanto tempo se non ma dopo un mesetto dopo un mesetto dopo un mesetto non ricordo esattamente dopo quanto dottore non ricordo esattamente comunque la situazione ancora era calda voglio dire non è che era non ricordo esattamente quindi lei dice dopo il primo episodio certamente prima del secondo sì ci richiamo a fare questa visita sì senta io le faccio una domanda molto chiara perché ho un verbale davanti ma nel corso poi della frequentazione che lei ha avuto anche dopo il primo episodio perché c'è stato il secondo e il terzo e il rapporto che lei ha mantenuto con Calabro è andato anche oltre sì lei è in grado di dirci oggi alla luce di tutto quello che lei ha vissuto in relazione a quel periodo e a quegli attentati se Calabro avesse il peso criminale di autodeliberare come se Calabro avesse il peso criminale di deliberare da solo di decidere da solo assolutamente no e come faceva mi faceva ammazzare pure a me benissimo in modo più assoluto negativamente e tra i riferimenti di indrangheta che Calabro aveva lei è in grado di dirci chi aveva il peso criminale di deliberare quegli omicidi ma lui con i contatti suoi che aveva sicuramente allora lui non li poteva deliberare il padre non li poteva deliberare indrangheta da Calabro era lo zio Rocco Santo che a Filippone era indrangheta da Calabro oppure quando era con ilatella ilatella in quel momento ma in quel momento non era con ilatella era con noi cioè con noi era in questa fase era diciamo si era schierato contro ilatella e quindi e quindi le persone e quelli rimangono che possono dare un un consenso o una delibera quelle rimangono e più di una o lo zio o ma lui aveva anche contatti con un'altra persona comunque con Mimmolo Giudice anche Mimmolo Giudice era molto legato a lui di 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 Sant'Antonio sì e chi è questo Mimmolo Giudice? Mimmolo Giudice era un personaggio di spicco della Cosca Libri lui rappresentava il locale per i libri di Sant'Antonio di Reggio Campi ma questo si chiamava Mimmo Domenico Domenico Demetrio se non mi sbaglio Demetrio si chiamava se non mi sbaglio quindi lei dice per quelli che erano i rapporti che aveva Calabro erano lo zio o questo Demetrio lo giudice le persone che erano in vista diciamo che avevano un ruolo di indrangheta erano loro diciamo vicino a Calabro allora domanda secca Villani per quello che lei ha vissuto in quel periodo per tutto diciamo quello che è avvenuto in relazione agli attentati dei Carabinieri lei è in grado di dire se Filippone Rocco Santo ha autorizzato Calabro Giuseppe a uccidere i Carabinieri tra il dicembre 93 e il febbraio 94 no non sono in grado di dirlo e perché il 4 giugno del 2013 lei dice sono certo che fu Filippone Rocco Santo a uccidere a autorizzare questi attentati ai Carabinieri allora questo questo non riesco a dirlo esattamente che 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 cioè sono delle cose che mi hanno fatto pensare ecco che sia che sia stato lui ecco voglio precisare questo allora precisi perché allora siamo andati diciamo da lui dopo che ci sono c'è stato il primo attentato sì non ci toccava nessuno abbiamo reperito delle armi dal figlio di Rocco Santo Filippone lui aveva un collegamento diretto con i tegano De Stefano libri a Reggio tramite suo compare Mercurio e ogni volta che mandava un'ambasciata in qualche posto si fermava tutto in più era molto voluto bene da suo nipote Calabro Giuseppe era molto legato a lui e la cosa che mi fa pensare che possibile che sia stato lui ad autorizzare questi eventi è il fatto che Calabro quando ha collaborato con la giustizia a suo zio non l'ha mai nominato in in questo in questo modo non ha mai detto non ha mai specificato tante cose ha cercato sempre di riservarlo perché per quale motivo lui ha nominato anche a volte persone che poi si vedrà ma una serie di cose che mi facevano pensare e che mi fanno pensare che l'autorizzazione sia potuta partire da Rocco Filippone per il peso che Rocco Filippone aveva i contatti e poi si è aggiunto poi in un secondo momento si sono aggiunte anche le riunioni fatte nella nella piana dove diciamo erano presenti personaggi dei piromalli c'erano i De Stefano c'erano gente di Cosa Nostra perché riunione non è che ne è stata fatta una per quello che mi è stato detto eh ne sono state fatte più di una prima e dopo che sono avvenute determinate cose quindi Villani lei fa un'affermazione utilizzando il termine autorizzazione sì non perché Calabro parlando con lei si esprime in questi termini no ma sulla base di tutta una serie di circostanze che lei ha vissuto insieme a Calabro abbiamo capito bene assolutamente sì sì e queste circostanze sono principalmente connesse mi corregga se sbaglio a quell'incontro lì a casa del Filippone sì a quel gesto che lei ci ha indicato sì al compiacimento di Filippone sì e quindi le chiedo finito quell'incontro con Filippone sì in cui lui lei ha la percezione diciamo di quello che ci dice il vostro progetto criminale diventa spietato diventa spietato ah cambia peggiora sì e in che termine nel termine che diventa una cosa più organizzata in maniera assoluta perché per esempio la macchina andiamo e la ripeteremo noi la macchina la prendiamo noi direttamente perché avviene in Calabro una sorta di diciamo si sentiva un debole perché aveva sbagliato veramente ci sentivamo tutte e due due debole che avevamo sbagliato quindi lei dice che dopo l'incontro con Filippone di quel giorno la determinazione di Calabro aumenta sì sì ma questo Calabro lo dice a lei o lei lo percepisce per quello che Calabro fa no no per quello poi no non lo dice a me ma per quello che poi sono stati gli eventi pure perché Calabro a me dice guarda che non dobbiamo sbagliare assolutamente fai tutto quello che io ti dico va bene infatti noi io non andavo mai non bisognavo mai di andare a rubare una macchina io non ho saputo mai rubare assolutamente anche perché rubare una macchina per noi era una vergogna però in quell'occasione siamo andati abbiamo preso una macchina l'abbiamo rubata a Melito Portosalvo a un signore che l'ha lasciata fuori con le chiavi appese al quadro siamo saliti sopra e ce la siamo portati perché era la macchina che doveva essere usata per uccidere i carabinieri che dovevamo aspettare nella piazzuola tra Bagnare e Scilla questa aumentata determinazione di Calabro successiva all'incontro con lo zio Rocco Filippone ai suoi occhi quando si manifesta subito dopo l'incontro o nei giorni successivi ma no nei giorni successivi anche perché poi si inizia a fare dei preparativi in maniera più approfondita si sta più attenti insomma avvengono delle cose che vedevo che imparavo delle cose che lui già sapeva fare e li stava mettendo in atto quindi i preparativi relativi poi al secondo agguato che è quello mortale sono condotti in maniera più attenta più scrupolosa rispetto al primo impeccabile purtroppo impeccabile guardi dottore impeccabile impeccabile io non voglio scendere nei particolari perché voglio no lei scende nei particolari che se no ci alziamo e ce ne andiamo e lo so però mi sento un pochettino in perché i carabinieri quando noi il programma che avevamo per i due carabinieri defunti non era proprio quello noi praticamente i carabinieri dopo che li abbiamo uccisi li dovevamo buttare di sotto li dovevamo prendere dalla macchina e buttarli sotto il guardarail dell'autostrada insomma ho visto che il Calabro non bisognava non bisognava soltanto diciamo colpirli a morte con le armi bisognava fare ancora di più e perché perché Calabro aveva detto che dobbiamo essere molto ma molto più spietati quello che non siamo stati prima e questo termine che Calabro utilizza essere molto più spietati non lo aveva mai usato prima dell'incontro con lo zio no prima dell'incontro con lo zio lui era convinto che delle cose che si dovevano fare che si dovevano colpire i carabinieri si dovevano colpire i militari che ma un altro poco forse era stato meglio stavamo perdendo la vita noi ma forse era stato meglio non aveva quella non lo so c'era un qualcosa che si esitò si esitò grazie a Dio nella prima occasione sì lei dice aumenta la determinazione la determinazione di Calabro Calabro mi dice dobbiamo essere spietati e programmiamo tutto nel dettaglio sì è così assolutamente sì ma poi ci saranno pure delle altre cose che io mi perdoni Villani aspetti sì sì scusi nel viaggio di ritorno da Melicucco a Reggio Calabria dopo il primo incontro con Filippone Roccosanto mi segue? sì lei e Calabro parlate? sì sì parliamo nel senso che un punto di ammirazione per quest'uomo che io ammalato di indrangheta lui è ammalato di indrangheta stiamo parlando di un uomo che diciamo che dà un esempio di indrangheta di alto livello quindi nel viaggio di ritorno da Melicucco lei e Calabro parlate di Filippone Roccosanto come un uomo di indrangheta di cui avete forte ammirazione sì sì diciamo che sì e nel viaggio d'andata voglio dire questo discorso era stato pure fatto Calabro non le aveva detto dove andavate? no no me l'aveva detto andiamo a trovare mio zio è quello il momento quindi il viaggio di ritorno in cui lei percepisce che aumenta la determinazione si parla di essere spietati l'ho visto più sicuro a Calabroio nel senso che era molto più sicuro anche perché lui si faceva trascinare da questa area di indrangheta anche quindi lei lo vede immediatamente più sicuro sì sì lo vede più sicuro tipo che aveva una protezione una cosa del genere sì siamo andiamo liberi non lo so nel senso così i preparativi del secondo agguato iniziano subito i preparativi del secondo agguato iniziano dopo un po' di giorni perché avete necessità lei ha detto di rubare una macchina sì ma come ho detto già prima la macchina la dovevamo prendere noi non potevamo fidarci ma io gli dicevo ma non possiamo pagare due trecento mila lire e ce la facciamo portare no poi lo sanno no va bene va bene Presidente se le ritieni ci fermiamo qui al furto della come ci vogliamo organizzare a che ora riprendiamo quanto tempo ci dica lei sono le due dieci possiamo fare tre meno un quarto tre meno dieci massimi una mezz'oretta io direi tre meno venti ci vediamo va bene sì Presidente mi scusi Presidente mi autorizza stare al telefono dieci minuti dico il signor Greviano possiamo mantenere il collegamento dieci minuti sì dieci minuti avvocato non di più va bene grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti